Quasi, diciamo quasi. Io direi che quando volete possiamo cominciare. C'è il messaggio, sì sì sì. Bene, allora iniziamo e rinnovo il mio benvenuto a tutte e a tutti. Noi fino ad ora ci siamo un po' salutati così in maniera informale e alla spicciolata. Davvero grazie a tutti voi che siete intervenuti in ruoli diversi anche semplicemente per la curiosità e il piacere di accompagnarci in questo percorso che vogliamo intraprendere. E che io ci tengo a chiamare cantiere di discussione, questo non è un convegno, benché fitto fitto di nomi di studiosi e studiosi interessanti che hanno prodotto e producono cose importanti su queste questioni. È un cantiere di discussione perché è un percorso che è all'inizio, che stiamo cominciando a fare assieme e che mi auguro che continuerà arricchendosi. In effetti da quando abbiamo cominciato a pensarci si sono aggiunti tanti altri studiosi, abbiamo fatto dei leggeri mutamenti di rotta, sempre credo nella direzione dell'arricchimento e degli stimoli reciproci. E approfitto ora per ringraziare davvero tutti voi per averci aiutato a rimbalzare il più possibile questa iniziativa, anche coinvolgendo altre istituzioni, altri enti, altri colleghi. Io direi che a questo punto possiamo iniziare e partiamo con quella gradevole solennità che fa parte poi di eventi legati comunque a un'istituzione come l'università e quindi io do la parola con piacere immediatamente al nostro direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università di Bari, il professor Paolo Ponzi, un filosofo in mezzo a tanti storici e a tanti altri saperi esperti. Ecco abbiamo anche abbiamo anche un po' di filosofia oggi oggi fra noi. Prego Paolo e grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Ma io sono un povero direttore, più che un più anche un povero filosofo o meglio storico della filosofia. La professoressa Carrino lo sa bene, che mi interessa di storia e della filosofia. E io volevo, diciamo, dandovi il benvenuto e ahimè, dandoli in questo modo, veramente sarebbe stato molto più bello invece vedersi in presenza e potersi, diciamo, e poter insieme dialogare su questo tema. Io ci tengo molto a dire due cose. La prima è rispetto proprio a questo seminario. Ecco, se, diciamo, un evento incarna proprio l'idea della ricerca e dell'innovazione umanistica è proprio il tema di questo seminario, che va oltre gli steccati, che va oltre, diciamo, la banalizzazione di certi studi o la semplificazione di certi studi e cerca al di là di. E questo al di là di è proprio il tema, il contenuto di questi due giorni di seminario. Quindi, diciamo, la prima cosa che mi permetterete di fare è di ringraziare la professoressa Carlino perché sta pensando oltre, sta pensando al di là di quello che è l'orizzonte quasi normale, quasi, diciamo la parola, corretto all'interno, diciamo, di un'idea che tutti quanti noi abbiamo o meglio, che tutti quanti noi ascoltiamo. E quindi questa dà l'idea del motivo per cui esiste un dipartimento umanistico che guarda all'innovazione come la base sperimentale dei suoi studi tradizionali, non dei suoi studi tecnologici o di digitalizzazione. Quello è anche, quello è un plus, ma innanzitutto l'innovazione all'interno dei nostri studi, all'interno delle nostre indagini, della nostra capacità e anche delle nostre possibilità di andare a fondo, andare alle radici del problema, come il problema della violenza, del male all'interno dei geni. Ecco, diciamolo così. La seconda, quindi questa è la prima cosa che mi piace, che dico proprio come introduzione, per il mio brevissimo saluto. La seconda, invece, la prendo dalle letture che in questi ultimi tempi sto facendo, rispetto proprio anche a questo problema, in realtà al problema del potere, perché poi anche il problema della violenza delle donne è comunque di fatto alla ridice un problema di potere. E appunto su questo problema sto leggendo molto, e ultimamente mi sono anche imbattuto in alcuni testi della Butler, di Judith Butler, testi, diciamo, soprattutto di commento a Hegel. E così, diciamo, mi sembra che sia interessante che in questa violenza sulle o delle, in questa violenza di genere, si possa anche ripensare a quella dialettica servo padrone della fenomenologia dello spirito, in cui non si sa bene come vanno a finire le cose, ma di fatto ci sono due elementi importanti. di uno che la sopraffazione sull'altro è sempre, ha sempre come obiettivo la riduzione del sé, la riduzione dell'io. E questo porta a che cosa? Porta ad una, all'idea, se volete anche obsiana, di eliminare dall'orizzonte la violenza e di mettersi d'accordo, o meglio, di riconoscersi l'un l'altro. E di questo riconoscimento che forse la dialettica servo padrone può essere reinterpretata come un riconoscimento dell'alterità reale, dell'alterità vera, riconoscendosi insieme umani e facenti parte della stessa natura. Quindi, come dire, grazie, grazie per questo seminario. Io tenterò di, no, tenterò, diciamo, questa prima oretta me la dedicherò ad ascoltare le relazioni, le relazioni, diciamo, i cui titoli sono veramente molto interessanti, anche abbastanza, diciamo, intriganti. Quindi, grazie ancora. Speriamo di vederci dal vivo al più presto. Paolo, grazie per quello che hai detto e anche per quello che è tuo costume, cioè di non fare delle introduzioni da direttore. Mi piace molto il fatto che tu entri, diciamo, nel tema dal tuo punto di vista, evidentemente, e dato che il termine non lo amo molto, ma questo è un seminario molto contaminato e allora un po' di contaminazione anche di filosofia ci piace molto. E appunto non vuole essere un seminario scontato da tanti punti di vista e noi partiamo già, forse in maniera, ce lo siamo detti oggi chiacchierando con Niki, partiamo in maniera anche, diciamo, non scontata, perché noi ci tenevamo molto ad avere l'avvio dei lavori, ad affidare l'avvio dei lavori a Niki Vendole. Io gli sono estremamente grata per aver accettato. Allora io, come dire, mi concederò così per ognuno di voi, anche se inutile, è una brevissima presentazione, un modo per dare il benvenuto, ecco, mettiamola così, anche se non ce n'è bisogno, me ne rendo conto. Comunque solo per ricordarci assieme che Niki Vendola è stato da giovanissimo un dirigente politico a parte della FIGC, poi nel PC, Rifondazione Comunista, infine Sinistra Ecologia e Libertà, deputato e vicepresidente della Commissione Antimafia dal 96.996, sempre in prima linea rispetto al fenomeno del rapporto fra Stato e mafia. È stato presidente della Regione Puglia per due legislature dal 2005 ed è stato come tale protagonista di processi di innovazione politica e culturale riconosciuti anche studiati e imitati non solo in Italia ma anche all'estero. Nel suo operato, e questo, come dire, è una delle cose per cui diciamo grati, ha sempre posto la questione dei diritti delle persone al centro di una visione nuova della sinistra. Ma Niki Vendola è anche giornalista, poeta e scrittore. È un laureato della nostra università con una tesi su Pierpaolo Pasolini, che è un tema, è un autore che torna spesso nei suoi interventi, lezioni, articoli. E mi piace anche dirvi che fra pochi giorni Niki Vendola esordisce a teatro, partendo da Bari, ed è un Vendola inedito. A partire dal suo ultimo libro di poesie, Patrie, ha realizzato una performance teatrale che poi porterà in diverse città, intitolata Quanto resta della notte, che peraltro si avvale di prestigiose collaborazioni musicali, visive e registiche. Bene, allora io gli sono davvero grata e con grande curiosità, ecco, gli cedo molto volentieri la parola. Ma io sono, lui fingato molto da questa presentazione, e confesso uno spiazzamento rispetto alla richiesta così cortese di dare l'avvio a un convegno di specialisti, non essendo io uno specialista. Tanto che avrei suggerito di, se ci fosse stato il nome e il cognome scritto, di scrivere sotto, avrei suggerito di scrivere sotto intruso. Ma in realtà la battuta mi serve per sottolineare un problema. Lo specialismo vive una drammatica solitudine, perché non incrocia più la politica. E la politica vive una drammatica stagione di regresso, perché non si avvale più della gioia, diciamo, conoscitiva del rapporto dialettico con gli specialismi. Lo specialista è, diciamo così, prigioniero del suo microscopio. La politica è separata sempre di più rispetto alla vita, ai saperi. E questo è particolarmente drammatico, in un'epoca in cui le contraddizioni strutturali del modello di sviluppo, i punti quasi terminali di un percorso della storia umana, chiederebbero alla cultura di essere un supporto continuo alle scelte della politica. La politica, invece, non sembra molto interessata. Diciamo, costruisce se stessa nella navigazione a vista, nel giorno per giorno, nel galleggiamento, e quindi ritiene di non aver bisogno, diciamo, di questa bussola che è data dal rapporto con i saperi. E mi fa tristezza, perché penso con nostalgia a quegli anni 70, a volte tanto stigmatizzati, che erano per me importanti e vitali, proprio perché l'architetto, il medico, lo psichiatra, ciascun portatore di un sapere particolare, sapeva di poter rimbalzare le proprie domande, le proprie conoscenze su un discorso più generale. E il discorso più generale doveva confrontarsi con coloro che erano portatori, diciamo, di pensiero critico e di saperi nuovi. Questa è, diciamo, una premessa alla premessa. Per questo, benché intruso, sono felice di essere intruso e confesso un secondo sentimento strano, l'invidia di genere. L'invidia di genere. Quando mi hanno proposto di partecipare a questo specifico convegno, la prima reazione è stata di incredulità, perché automaticamente ho pensato a quei titoli di alcuni quotidiani, penso Libero, penso Il Giornale, che ogni tanto, se c'è un fatto di violenza imputabile a una donna, lo usano per fare il pari con il femminicidio, quasi a negare, diciamo, l'esistenza di un problema di quelle proporzioni, che è di quelle proporzioni per la sua continuità e per il carattere globale, perché il femminicidio, diciamo, non ha dogane, non ha confini, non ha bandiere, è veramente, diciamo, un fenomeno tendenzialmente universale, lo vediamo in ogni parte del mondo. E quindi ho detto, che coraggio! E poi è intervenuta l'invidia di genere. Ho detto, vedi, le donne hanno ribaltato la condizione, diciamo così, di trasformazione della diversità in inferiorità, che è stata, diciamo, la grande operazione culturale, semantica, la grande adulterazione della storia del mondo che ha fatto il genere maschile, e l'hanno ribaltata con un lavoro straordinario di scavo dentro la storia delle donne, dentro l'auto-organizzazione delle donne in diversi contesti sociali. Hanno costruito biblioteche intere, ragionando di archeologia del femminile, di genealogia del femminile, e hanno ovviamente messo al centro di questa riflessione proprio la grande mistificazione del maschile, che non si è mai presentato come parzialità, ma si è presentato, diciamo, di tutto l'universo, si è presentato come, diciamo, una lievitazione cosmica dell'umanità, e non come un pezzo dell'umanità. E hanno messo al centro della loro riflessione il patriarcato, hanno messo al centro la storia, diciamo così, della subordinazione di un genere rispetto all'altro. E questo lavoro è stato straordinario, perché ha aperto, diciamo così, la strada all'inizio, una battaglia di parità, di emancipazione, e poi è una battaglia, invece, di liberazione. Cioè, non di un percorso che portasse il genere femminile ad assomigliare al genere maschile, vogliamo essere come voi, ma che portasse il genere femminile, diciamo così, ad avere valore e potere per ciò che è, e non per essere il riverbero di un pensiero maschile. La reiterazione in secula, seculorum, della costola di Adamo. Ma invece costruire una fondazione, ecco, il femminile come fondazione di sé. E il fatto che oggi si corra questo rischio di mettere a tema non la violenza subita, ma la violenza agita, ha, dal mio punto di vista, un doppio vantaggio. Un vantaggio riguarda le donne, diciamo così, che in questo percorso di conoscenza non riconoscono valore ad alcun tabù. Cioè, la conoscenza è a 360 gradi, perché entrare nel cono d'ombra della vita, della storia, è importante anche perché sappiamo che sono sempre pesanti e insopportabili le distinzioni fondate sul manicheismo dei diversi compartimenti della realtà. Se la realtà fosse solo bene e male e non tante terre di mezzo, tante terre di confine, tante zone grigie, sarebbe, diciamo così, troppo facile. Quindi avere un interesse storico, specialistico sulla violenza agita aiuta a liberarci da uno sguardo sulle donne, che è uno sguardo degli uomini, ma che può essere anche uno sguardo delle donne sulle donne, che le vede sempre e soltanto come vittime, che introietta, diciamo, il vittimismo quasi fosse una conferma, diciamo così, di una predisposizione biologica, fisiologica, ad essere da un'altra parte rispetto ai maschi. Le donne, diciamo così, una qualche discendenza dall'idea della donna angelicata. La donna la presumi sempre come vittima, non la puoi immaginare come carnefice, se non perché sta reagendo, perché si sta ribellando, perché è finalmente esplosa rispetto a una violenza subita. Ma invece stiamo parlando di un'altra fattispecie ed è interessante che le donne non abbiano paura di, diciamo così, di squadernarla quest'altra fattispecie. ed è per me un vantaggio anche per la storia della violenza, ecco, che è uno dei punti che, diciamo, mi interessa di più. La storia della violenza, la storia della, come posso dire, dei suoi codici, della sua riproduzione, non solo del suo essere effetto delle dinamiche di potere, come ha detto Poncio molto giustamente, ma del suo essere effetto delle dinamiche relazionali, il cui paradigma fondativo è la coppia amico-nemico. E' come se c'è nel linguaggio, nella relazione, nei suoi archetipi, un seme di guerra. Io vorrei che si andasse a questo scavo, alla ricerca di questo seme, perché penso questo, e lo penso disperatamente, ossessivamente, penso che è giunto il momento in cui la non-violenza debba fare un passo in avanti. E questo convegno ci fa fare un passo in avanti, perché la non-violenza deve essere innanzitutto messa a fuoco della violenza, conoscenza dei suoi marchi ingegni, delle sue procedure. La non-violenza ha bisogno di mettere oggi in discussione anche il monopolio legale della violenza, anche quel residuo, diciamo, istituzionalmente accettato, per cui lo Stato è il monopolista legale della violenza e i suoi apparati sono i delegati di questo monopolio. Io credo che non mi basta più, diciamo, stare dentro questa visione della società. Penso che voglio andare, o penso che i pensieri debbano andare in direzione dello sradicamento della radice di violenza e di guerra dalla produzione di storia umana. Non so se mi sono spiegato. Io penso che quando il caleidoscopio delle tante violenze, delle tante incubazioni di violenza, delle tante manifestazioni di violenza, più è preciso, più lo conosciamo, più possiamo intendere la storicità di ciascuna forma di violenza e liberarci dall'idea che la violenza sia una specie di pelle che l'umanità si porta, l'uomo lupo dell'uomo. Cioè, possiamo vedere il carattere ideologico dell'assunzione della violenza e della guerra quasi come di elementi che appartengono al corredo genetico, al DNA dell'umanità. Nel DNA dell'umanità c'è questo aspetto di cannibalismo dell'uomo sull'uomo, degli uomini sulle donne, dell'uomo sul creato. Ecco, io credo che invece bisogna fermarsi un attimo prima. E l'ultimissima cosa, ho esagerato anche, richiedo scusa, è il maschile. Il maschile deve guardare gli scaffali vuoti della biblioteca del maschile e si deve vergognare. Deve rendersi conto che si continua a vivere dentro la crisi del patriarcato cercando di restaurarlo, diciamo così, di miniaturizzarlo. Il patriarcato è come il manicomio, no? Pensi che chiudi i grandi ospedali psichiatrici e poi tende a riformarsi come micromanicomialità diffusa e così è il patriarcato. Tanto che a me faceva molto piacere vedere in quel vecchio film di Margareta Controtta la donna che spara al maschio femminista che lo toglie di mezzo perché anche qui diciamo il genere maschile maschile a volte ha pensato di spiegare lui come si fa la rivoluzione al genere femminile. Il genere maschile deve fare la rivoluzione su se stesso. Accorgersi che se si rilassa un po' e scende dall'Olimpo ne può solo guadagnare in umanità e in gioia che le relazioni diciamo così che hanno dentro un carattere predatorio e proprietario portano diciamo così a performance permanente in cui il genere maschile è prigioniero tra l'angoscia dell'impotenza e l'angoscia della prestazione onnipotente. Io spero che invece i maschi imparino dalle donne a guardarsi allo specchio e ad attraversare lo specchio. Scusate se l'ho fatta lunga. No altro che davvero grazie anche perché tu hai toccato una serie di nodi cruciali che in maniera più o meno esplicita stanno in questa nostra riflessione tanti hai parlato di tabù che è una cosa è uno dei nodi che io provo a mettere in evidenza e hai parlato soprattutto oltre che di violenza di maschile perché la questione è anche molto questa in questo tipo di riflessioni inevitabilmente si incontra una riflessione sulla mascolinità e quindi vale la pena anche per questo. Io ti ringrazio davvero tanto mi auguro che tu possa rimanere ancora un po' curiosare da intruso assai ben accetto in questo in questo nostro in questa nostra chiacchierata che appunto è un'altra cosa che mi ha colpito che ti ho detto perché noi la diciamo spesso gli specialismi che non dialogano più con tu dicevi la politica ma anche appunto con la società civile un tema come questo credo sia un di quei temi in cui siamo forzati ma come dire ben contenti di farlo a metterci in discussione anche su un piano di diciamo di fattualità di impegno di sorveglianza e di attenzione a quello che che ci succede attorno dunque grazie davvero ancora tanto io vorrei aprire così incominciando a entrare un po' nello specifico per quello che che so fare io che sono una modernista e quindi sono una storica che proprio da storica capisce che non basta la storia gli altri saperi esperti hanno bisogno evidentemente della storia e noi storici abbiamo bisogno da un lato di guardare prima e dopo il nostro periodo diciamo di studio diretto da un lato e dall'altro farci aiutare dialogare con gli altri saperi su certi temi poi un po' su qualunque cosa ma su certi temi credo che questa cosa sia ancora più importante quando ho cominciato a pensare a questo oggetto di ricerca io immediatamente come dire ho preso atto della insufficienza di uno sguardo che si limitasse al passato a un lavoro che derivasse solamente da da una cosa ovviamente importante per noi che però è il lavoro di archivio che però in questo caso poteva essere assolutamente insufficiente e poi la ragione come dire appunto lo stimolo del presente no bloc lo diceva è il presente che pone che pone le domande le domande al passato e il nostro presente è quello appunto di 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 un tema scottante come quello della violenza contro le donne contro le donne parto da questo tema incalzato appunto da da questo bombardamento continuo di notizie che che non vorremmo sentire ma che ci arrivano tema stimolato dal dibattito pubblico e anche dalla riflessione dei saperi esperti io sono una storica e cito uno per tutti in ambito storico un saggio un saggio importante che usciva nel 2017 per Diella curato proprio dalla collega Simona Fece e da Laura Schettini la violenza contro le donne nella storia anche lì non a caso libro come dire in cui si intersecavano epoche e saperi però proverei a fare un passo avanti le tante forme di sollecitazione e sensibilizzazione noi a volte stiamo stiamo ragionando e discutendo per esempio sull'utilità della giornata del 25 novembre bene queste forme che evidentemente sono tutte animate da da intenzioni le migliori però possono finire contro le loro la loro stessa volontà talvolta per produrre stereotipi semplificazioni fino anche distorsioni cioè possono rischiare di incastellare la donna appunto in un paradigma vittimario schiacciata su due dimensioni come sagoma di cartone e però c'è un'altra realtà e però è una realtà con cui noi fatichiamo a fare i conti cioè la violenza agita dalle donne la loro capacità di pensare prima di tutto e di generare violenza e non solo appunto come già diceva Nichi Vendola violenza di ritorno la presa d'atto cioè che le donne possono essere a loro volta attrici del male e sanno assumersene il carico ma tanto è dichiarata e denunciata la prima quanto è sottasciuta la seconda permettetemi una come dire così una digressione un po' un po' stravagante il grande racconto occidentale poggia sull'adamnazio memoria di Lilith lo sfondo della nostra locandina è il cosiddetto rilievo un altro rilievo di terracotta risalente al secondo millennio avanti Cristo di fattura probabilmente paleo babilonese conservata al British Museum che raffigura proprio Lilith dicevo l'adamnazio memoria di Lilith è l'assunzione di Eva a modello femminile ma Eva non sarebbe almeno colpevole di Lilith a guardare bene anzi forse lo è di più a pensare al grande fardello e responsabilità che le vengono addossati la caduta in disgrazia del genere umano e la presa d'atto dell'esistenza del male appunto il male banale quello quello quotidiano e da donna Eva viene punita per questo da donna cioè da madre che avrebbe partorito con dolore il peccato di Eva insomma si configura come il peccato della debolezza del cedere concedersi alla tentazione senza avere il coraggio la forza fisica prima ancora che morale di resistere però Eva non è diversa da quel prometeo che ruba il fuoco agli idee che vuole sapere conoscere sfidare ma se l'uno è archetipo è metafora del coraggio della libertà di pensiero l'altra è simbolo di insubordinazione violazione peccato incarna insomma un essere umano che in quanto donna è debole nel corpo e nello spirito e per questo fallace una donna anche per questo incapace di attraversare in autonomia la propria vita cui viene attribuito un ruolo gregario rispetto all'uomo in tutti gli ambiti dell'esistenza cui viene imposto più che affidato il compito di affiancarlo sostenerlo accudirlo attenderlo essergli silenziosamente umilmente vicina è Penelope che aspetta Ulisse egli è fedele tanto quanto il suo uomo non lo è e da questa sua debolezza innata la donna finisce anche per incarnare sempre il secondo elemento dei binomi fondativi dei ruoli umani di quelle distinzioni sociali e culturali così radicate da apparire naturali fra il viaggiare lo stare lo stare fra la cultura e la natura la natura fra la ragione il sentimento il sentimento l'irrazionalità l'equilibrio precario fino al suo eccesso l'isteria bene su questa sintassi potente si innesta anche il rapporto delle donne con la violenza insomma di violenza si parla si discute se ne studiano risvolti declinazioni ragioni in ambito storiografico il tema è presente da tanto ed è oggetto davvero di studi e analisi fini però quello della violenza femminile resta un soggetto delicato per certi versi imbarazzante una sorta di tabù e proprio tabù venne definito dal compianto Christophe Reginat un caro collega francese che insomma una orribile leucemia si è portato via a 40 anni che aveva iniziato a studiare queste cose il suo libro del 2011 si chiama proprio La violence des femmes histoire d'un tabù sociale volgersi però a questo lato oscuro delle donne dare loro appunto dignità del male e non pensarle solo come diceva la bad inter opprimer don't innocent pensiamo possa contribuire a restituire anche appunto quella terza dimensione che ne faccia un essere umano a parte intera e non solo oggetto facile di violenze che sono come dire pensabili prima ancora che attuabili identificazione automatica non negoziabile delle donne con le vittime ci conduce spesso proprio su quella false route evocata da bad inter ma appunto siamo di fronte a un tabù lo stesso libro di Elisabeth bad inter false route del 2002 venne accolto con una serie di disagio segno della fatica che si fa a parlare di donne e violenza come violenza agita e ugualmente con reticenza indifferenza che è ancora peggio forse fu recepito dieci anni dopo un importante volume curato da Colin Cardi e Geneviève Truvaut pensé la violenza des femmes e non c'è dubbio che ci sono dei rischi insiti in questa prospettiva in primo luogo e cito ancora Regina il rischio come uomini di farne un travail machiste di mostrarsi misogini di poter dare l'idea di voler sviare l'attenzione dalla violenza subita quasi depotenziandola e di consumare invece come donne è una sorta di tradimento questione però non va messa sul piano di decidere quali dei due generi sia il più violento il più forte o quello che più facilmente può incarnare il ruolo di vitti ma né tantomeno di schierarsi e non si tratta e questo davvero lo sottolino con forza non si tratta non di meno di depotenziare un fenomeno come il femminicidio di diluirne la portata di perdere di vista il quadro di riferimento evidentemente di matrice patriarcale appunto un patriarcato come diceva Nichi Vendola che non è mai scomparso cambia si è sbriciolato ma è tutto lì ancora e all'interno di questo patriarcato il femminicidio viene generato e reclama non solo misure urgenti ma anche io credo una riflessione più ampia sulla vistiosità di culture e pratiche dalle più minuti alle più vistose che continuano a permetterne un'esistenza così così drammaticamente ingombrante si tratta invece di partire dalla presa d'atto di una pratica culturale generalizzata di uno sguardo che che devia e seleziona per trarsi l'impaccio per non ammettere in certi casi l'impensabile l'indicibile nella sua crudezza e realtà si tratta permettetemi di citare ancora Regina di Montré l'esistenza invisibile ma réelle di un pratica la voia per l'egalità totale non può non si fare solo sulla base di criteri giugati positivi per servire in cause si tratta peraltro di prendere atto che la sottovalutazione la sottostima e la sottorappresentazione della violenza femminile e la stessa indulgenza mostrata dagli uomini tanto in ambito sociale che giuridico e giudiziario è un dispositivo che permette di mantenere le donne in una condizione di inferiorità in quella infirmita sexus abbandonata dal legislatore ma mai scomparsa del tutto dalla pratica così la donna violente al tempo stesso presente assente additata e invisibile denunciata e singolarizzata tradendo di fatto il malessere e il disagio sociale e morale che suscita il posto delle donne violente o meglio l'assenza di questo posto è tributario di questo malessere da qualunque prospettiva la si analizzi e finisce per produrre appunto forme di rimozione collettiva le violenze estreme quelle che provocano crimini di sangue sono sinonimo di crudeltà sono raramente accostate alle donne e all'immagine che viene loro associata di debolezza di fragilità è più facile ammettere la violenza di strada quella che la donna compie accanto di concerto col proprio uomo ma non la violenza fra le mura domestiche quella cioè che tradisce e smentisce ruoli primigeni d'altro canto e questo è anche credo un altro punto importante su cui lavorare ne abbiamo vi abbiamo già accennato questa rimozione è anche intrisa di accenti virilistici sintomo della resistenza e reticenza dell'uomo ad ammettere di essere vittima vittima di una donna vittima della sua donna la difficoltà di pensare la violenza delle donne sta dentro il medesimo quadro culturale che continua a permettere il femminicidio lo voglio sottolineare ancora una volta è un modo per riaffermare ruoli disomogenei e gerarchicamente risposti cioè siamo di fronte a una percezione sessista della violenza gli uomini sono carnefici le donne sono vittime e pensare già solo pensare alla violenza femminile significa e cito Arlette Farge prende en compte l'étonnement che saisì le monde all'annonce di tutta violenza exercita par le sex femminile eppure gli archivi ci propongono innumerevoli esempi di donne che si macchiano di delitti gravi contro natura no casi di avvelenamento l'infanticidio l'omicidio all'arma bianca allo stesso modo altri saperi altri saperi esperti devono fare i conti con casi in cui le donne sono attrici di atti violenti contro i propri uomini contro i figli contro altre donne violenze materiali o immateriali atti fisici e verbali ma tutti ugualmente degni di attenzione dunque ragionare di violenze in questo caso specifico delle donne osservare le dinamiche che conducono a compiere gesti aggressivi o financo e ferati e guardare al modo in cui questi vengono percepiti valutati codificati sul piano sociale come sul piano giudiziario implica la possibilità io credo di abbordare in un modo obliquo attraverso l'analisi appunto di un momento di crisi il ruolo le aspettative e le percezioni delle donne stesse il momento di crisi infatti ma noi nel nostro mestiere questo come dello costatiamo costantemente il momento di crisi non è tanto importante perché è eccezionale ma proprio perché riesce a mettere a nudo in maniera immediata e spesso senza filtri le logiche e le grammatiche sociali che regolano proprio il quotidiano ci si colloca su una sorta di zona di frontiera di incroci fra discorsi normativi stanze di regolamentazione e in molteplici casi di aggiustamenti che vengono fatti alla realtà e dunque in quest'ottica io credo la criminalità può essere abbordata come una sorta di grammatica del tessuto sociale e quello che noi proveremo a fare perché credo che sia importante è separare violenza collettiva da quella domestica si tratta di due ambiti differenti l'una come dicevo iscritta in un quadro collettivo dando forma a momenti in una qualche misura ritualizzati tradizionale ben conosciuta fino anche attesa e a differenza di quella maschile generalmente non armata le donne in questo contesto come dire vestono il loro ruolo umiliano umiliano le autorità con la violenza del loro sarcasmo con le accuse feroci con il riso beffardo poi però c'è la violenza privata che è la più sconcertante soprattutto quando supera limiti non scritti e non detti ma ben presenti è capitato di discuterne con con i darlos a questo riguardo ci sono cioè forme di violenza femminile ammessa tollerata che non scuotono l'ordine sociale e familiare e una di queste è sicuramente quella fatta di ingiure di offese di tutte le declinazioni delle hate speech cioè violenza esercita soprattutto fra donne che non suscita reazione da parte né dell'autorità né dell'opinione pubblica e che finisce generalmente per ricadere nel pittoresco per suscitare scherno o riso nella comunità comunità di uomini soprattutto è violenza stereotipata oggetto letterario caricaturale e solo raramente finisce nelle aule di giustizia ma vi finisce e noi abbiamo degli esempi di questo è in generale comunque un copione già scritto è la storia per tutte della Kate Shakespeareana immancabilmente domata dispute de femme n'interesse personne è la dichiarazione la testimonianza di un commissario di polizia nella Parigi settecentesca che era stato chiamato per placare proprio una rissa fra donne quando invece la donna diventa lo virgoletto evidentemente violenta come un uomo in qualche misura è come se rinnegasse il suo ruolo è una donna sfuggita al suo compito sociale è una donna della femminilità dimediata come la criminale lombosiana o è pazza ancora oggi durante le indagini o durante un processo la perizia viene chiesa più frequentemente per le donne omicide per i reati in ambito familiare quasi che in tali casi vi sia una forte aspettativa di anormalità e in questo sto citando un bell'articolo scritto da una magistrato che è Maria Laura Fadda che come dire con cui ho iniziato proprio a dialogare per aver bisogno anche di capire da un altro punto di vista l'oggetto della nostra riflessione e dunque io credo che occorre guardare anche alle forme di violenza femminile inquadrandole ovviamente nei propri contesti e resistendo alla tentazione da un lato di classificarle così finendo quasi per depotenziarle e dall'altro di relegarle nella rassicurante categoria dell'eccezione per esempio la pazzia quella è diciamo una rassicurante nicchia in cui andare a collocare atti che in qualche modo non si vogliono non si vogliono accettare invece occorre guardare non solo studiarli ma anche interrogarsi su come questi atti vengano percepiti affrontati e narrati oltre che evidentemente puniti bene noi è quello che vogliamo cominciare a fare oggi e soprattutto questo non è pensato appunto è un cantiere non è un convegno strutturato è un momento in cui noi vorremmo più porre domande che fornire risposte chiederci assieme come affrontare ognuno dal proprio punto di vista specialistico ecco la propria cassetta degli attrezzi un nodo complesso come questo un tema me ne rendo ben conto pericoloso imbarazzante e scivoloso ma affrontato con grande onestà intellettuale con l'idea che sollecitare una riflessione a partire dai casi concreti che incontriamo nei nostri mestieri volte al passato come al presente facendo tesoro delle intersezioni fra i saperi esperti possa dare un contributo non inutile al dibattito generale alla lettura e alla comprensione attiva e partecipata del presente bene io mi fermo mi fermo ovviamente qui solo un ultimo minuto ultimo ma non ultimo per ringraziare tantissimo la società italiana delle storiche la società italiana di criminologia e il centro interdipartimentale di ricerca di psicologia applicata per interventi in ambito medico economico giuridico e ambientali che hanno supportato questo questa iniziativa assieme ovviamente al dipartimento di ricerca e innovazione umanistica non vi non vi sottraggo altro tempo e direi di cominciare a seguire il programma il programma dei lavori alcuni presenteranno un powerpoint che mandiamo via via slide per slide la preghiera a tutti ce lo dicevamo un po' così prima scherzando prima del collegamento di tenersi nel quarto d'ora venti minuti anche perché uno dei guai insieme a tanti altri la mancanza del piacere della convivialità di un intervento online è che non possono partire bigliettini minacciosi hai finito il tuo tempo e cose del genere quindi affido al vostro buon cuore di tenerci nei tempi anche per permettere soprattutto domande questioni curiosità fra di noi e con chi con chi ha la bontà il piacere di ascoltarci io cedo subito la parola a Liglia Zanetti Dominguez che è una giovane studiosa una Maria Svodosca Chiurifello valla statale di Milano Lidia nella sua ricerca si focalizza prevalentemente sull'influenza della spiritualità cristiana sulla giustizia criminale nell'Italia basso medievale con una particolare attenzione proprio alla violenza delle donne e ha proprio recentemente curato un bel bellissimo libro operato Women Violence in Late Medieval Mediterranean davvero un'opera diciamo corposa piena di belli interventi con una con una molto utile introduzione il titolo del suo intervento oggi è punire la violenza femminile nell'Italia basso basso medievale Lidia mi pare che tu abbia un powerpoint no allora adesso lo mandiamo lo mandiamo subito prego cara sì scusami un secondo ecco qua perfetto lo vedete tutti grazie mille intanto vorrei ringraziare naturalmente la professoressa carrino per aver organizzato questo convegno a cui sono davvero molto fiera di partecipare il tema che affronterò è appunto quello della diversità delle pene erogate a uomini e donne per uno stesso crimine violento che come è stato menzionato nell'introduzione è stata già sollevata dalla criminologia femminista nel corso del ventesimo e ventunesimo secolo e queste ricerche hanno mostrato che normalmente per via di un certo atteggiamento paternalistico delle corti di giustizia le donne ricevono pene più miti rispetto agli uomini tranne nei casi in cui appunto il crimine compiuto sia considerato per il suo carattere particolarmente violento o disturbante incompatibile con gli stereotipi di genere che prescrivono alle donne caratteristiche di obbedienza e dolcezza e in quel caso invece è possibile che tali manifestazioni di una femminilità aberrante ricevano punizioni particolarmente severe tuttavia queste ricerche hanno anche suggerito che le differenze nell'entità delle condanne tra uomini e donne non possano essere spiegate esclusivamente tramite la variabile di genere e per capire davvero perché questo accada è necessario prendere in considerazione anche una varietà di altri fattori socioculturali come l'etnia alla classe sociale la situazione familiare eccetera e allo stesso tempo calare più approfonditamente queste vicende nel contesto del sistema giudiziario in cui hanno luogo e proprio con questo approccio cercherò di affrontare il tema della disparità nel punire la violenza di uomini e donne nell'Italia comunale del 200 e del 300 per ragioni di tempo mi concentrerò soltanto sul crimine di omicidio che appunto essendo il reato atroce per eccellenza è potenzialmente un osservatorio privilegiato per indagare le pregiudiziali di genere nella condizione della violenza e spero di poter approfondire riguardo agli altri delitti in sede di pubblicazioni degli atti allora le pene corporali sono state usate sempre più spesso per punire il reato di omicidio a partire dalla seconda metà del 200 in poi e gli storici si sono spesso posti la questione se ci fosse una differenza nei metodi di esecuzione tra uomini e donne già nel 1939 Jean Gessler sosteneva che la pena dell'impiccagione fosse riservata agli uomini colpevoli di reati violenti mentre invece alle donne sarebbe stato riservato l'annegamento o ancora più frequentemente il rogo secondo Gessler questa differenza sarebbe legata a questioni di pudore in quanto l'impiccagione prevedeva un'esposizione del corpo del criminale che era considerata sconveniente nel caso di femmine e quindi la scelta del rogo piuttosto che dell'impiccagione sarebbe stata dettata da un atteggiamento di riguardo nei confronti della modestia femminile questa concezione è stata criticata da Esther Cohen che anch'essa ha vallato l'ipotesi che ci fossero metodi di esecuzione diversi per uomini e donne e che alle donne venisse riservato il rogo però allo stesso tempo ha sottolineato come Gessler abbia attribuito al basso medioevo una concezione del pudore che non gli era propria infatti sappiamo che l'esposizione del corpo femminile e della nudità non costituivano motivo di scandalo in ambito giudiziario e troviamo nelle fonti molti casi di donne condannate a correre nude per le strade della città fustigate pubblicamente anche nelle città italiane per punire reati quali il furto o l'adulterio quindi secondo Cohen non sarebbe il pudore a tenere le donne omicide lontane dalla forca ma la paura infatti la necessità di bruciare queste criminali purificando così la società dalla loro influenza nefasta sarebbe legata a credenze tradizionali di origine germanica secondo cui queste donne che per natura sono più vicine al demoniaco degli uomini avrebbero potuto tornare a tormentare la società dei vivi sotto forma di Revenon questa spiegazione però presenta dei significativi punti deboli intanto il riferimento a un atavico folclore germanico nasconde il fatto che i rituali di esecuzione premoderni non sono tradizioni atemporali e l'uso sistematico della pena di morte per punire l'omicidio come ho detto si affermi in Europa occidentale proprio dalla seconda metà del XIII secolo invece colte legislative alto medievali che sono state lavorate da popoli germanici a cui Cohen sembra fare riferimento l'omicida se era di condizione non servile era di norma soggetto a sanzioni pecuniarie quindi messo da parte l'elemento del folclore rimane da spiegare se la scelta di punire le donne con il rogo sia dettata puramente da ragioni di misoginia e quale ruolo questa misoginia abbia più complessivamente nella punizione della violenza femminile all'interno dei sistemi di giustizia criminale dell'Europa passo medievale allora ho cercato di contribuire a rispondere a queste domande tramite le fonti italiane e come punto di partenza ho utilizzato un documento dell'archivio di stato di Siena di Cerno Banditi e Carcerati 725 che consiste in una lista di più di 10.000 condanne che sono state pronunciate a Siena tra 1270 e 1296 ovviamente non ho potuto analizzare una mole così elevata di dati ma ho scelto di analizzare un campione in particolare cioè le podesterie cioè diciamo l'operato di due podestà che erano i principali ufficiali giudiziari dei comuni italiani che operarono tra il secondo semestre del 1287 e il primo semestre del 1288 allora in questo lasso di tempo quindi 12 mesi ho trovato 292 condanne per omicidio tra uomini e donne e va detto che gli statuti di Siena emanati proprio nell'anno 1287 prevedevano delle pene pecuniarie per l'omicidio involontario quindi per esempio un omicidio avvenuto in seguito a una rissa finita male mentre invece prevedevano la pena di morte per l'omicidio volontario e questa pena di morte era accompagnata dalla confisca dei beni quindi la formula utilizzata nei documenti medievali è condemnatio in avere et persona allora analizzando i dati relativi a questo anno ho trovato che 158 persone furono condannate a una pena capitale per omicidio mentre invece 134 a pene pecuniarie allora va detto soprattutto che non è possibile tramite questa fonte capire quante di queste condanne siano state effettivamente eseguite è improbabile che siano state eseguite 158 condanne in quanto il tasso di contumacia nei comuni italiani era molto elevato e tra l'altro era molto comune commutare poi pene corporali in pene pecuniarie comunque guardando queste proporzioni non sembrano poi così tanto diverse il 54% degli omicidi è condannato a morte e il 46% è multato se utilizziamo però un filtro di genere allora la situazione cambia e le donne che pure rappresentano una porzione esigua dei condannati per omicidio perché ne ho trovate 16 in totale hanno una probabilità di essere condannate a morte decisamente più elevata che per gli uomini e qui lo vedete dal grafico per le donne la probabilità è del 68,75% quindi 11% dei casi inoltre abbiamo detto che l'etichetta in avere e di persona non permette di ottenere informazioni più precise sul tipo di esecuzione a cui queste donne furono condannate perché è un'etichetta diciamo ad ombrello che comprende tutte le possibilità però in tre casi di tre donne colpevoli di infanticidio si specifica che la pena prevista è proprio quella del rogo e guardando in generale il volume al di là del campione che ho scelto leggendo tra le pagine di questo volume si trovano molte altre tracce di donne esplicitamente condannate a rogo come per esempio il caso di una donna che ne avvelenò un'altra oppure di una donna che commissionò l'omicidio del proprio marito quindi a prima vista sembrerebbe che l'idea che nel basso medioevo i metodi di esecuzione capitale fossero diversi per uomini e donne e che le omicide subissero un trattamento più sfavorevole da parte delle corti in virtù del loro sesso sembra confermata però ovviamente il quadro è più compresso di quello che appare a prima vista e innanzitutto anche se il rogo abbiamo visto è spesso usato per punire le omicide donne anche se al momento non sono in grado di dare dati statistici a riguardo troviamo anche donne condannate alla decapitazione che era la pena che effettivamente era prevista dagli statuti e che era la più comunemente utilizzata anche nel caso di criminali uomini qui faccio qualche esempio un altro esempio senese di una donna che ferisce mortalmente un uomo è un altro esempio vercellese in cui una prostituta aggredisce e uccide una sua collega e ovviamente si potrebbero fare esempi tratti da diverse altre città italiane si trovano casi simili a Bologna Firenza e altrove non ho trovato invece casi di impiccagione di donne nell'Italia comunale però va detto che questa pena nei comuni italiani era riservata al reato di brigantaggio in cui sappiamo che il coinvolgimento femminile era piuttosto raro ma dove invece questo metodo di esecuzione era utilizzato anche per punire l'omicidio per esempio in Inghilterra o in Francia meridionale non è inconsueto trovare casi di donne impiccate e allo stesso modo sia in Italia che altrove si trovano sia casi di uomini condannati a rogo che annegati quindi contrariamente a quanto ipotizzato non si può propriamente parlare di metodi di esecuzione maschili e femminili come spiegare quindi questa diversità di esiti sanzionatori per uno stesso crimine allora è qui che è importante considerare altre variabili e inserirle nel contesto più vasto del sistema giudiziario dell'Italia comunale e dell'Europa medievale più in genere allora secondo il sistema di Iuscomune infatti le leggi anche se formulate al maschile dovevano essere interpretate come relative sia a maschi che a femmine e in ambito penale i commentatori dell'epoca sottolineavano che questo significava che uomini e donne dovevano essere soggetti alle stesse punizioni d'altra parte però si è notato che il diritto proprio degli statuti basso medievali spesso mancava di una dettagliata disciplina dei vari crimini e per esempio negli statuti dell'epoca normalmente non si trovano riferimenti espliciti all'infanticidio o al parricidio come figure speciali dell'omicidio e non sempre il riferimento allo ius comune al digesto di giustinianeo serviva a diciamo diramare questa matassa quindi la necessità di graduare le pene in base a circostanze attenuanti o aggravanti comunque veniva colmata facendo riferimento al concetto romano canonico di arbitrium con cui si intendeva il potere discrezionale del giudice di attribuire pene diverse da quelle esplicitamente previste dagli statuti in base a considerazioni sulle circostanze specifiche del crimine allora abbiamo visto che sicuramente l'intenzionalità e la premeditazione avevano un ruolo nel determinare la gravità della pena e questo è evidente nel campione che ho analizzato perché la fonte usa delle espressioni come studiose appensate ordinavite trattavite cioè pianificò e si accordò per appunto comunicare questa intenzionalità del crimine e infatti queste formule si trovano per lo più nei casi in cui l'omicidio è condannato a morte dall'altra parte invece espressioni quali vulneravit ita quad mortus est cioè ferì così da ucciderlo sembrano indicare una pretere intenzionalità e si trovano nei casi di omicidio puniti con sanzioni pecuniarie comunque oltre alla premeditazione c'erano altre circostanze aggravanti che erano considerate come per esempio il fatto di commissionare un'uccisione a terzi e questa era normalmente una circostanza prevista esplicitamente dagli statuti oppure l'avvelenamento o l'omicidio di un parente stretto che invece non erano citati negli statuti ma erano citati nella giurisprudenza tutti questi fattori aggiungevano un livello di proditorietà e premeditazione ancora superiori in quanto richiedevano una pianificazione meticolosa o comunque la decisione consapevole di tradire la fiducia dei propri cari quindi se riprendiamo gli esempi analizzati vediamo chiaramente che le donne condannate a rogo lo erano in virtù di circostanze aggravanti come appunto il beneficio o l'omicidio su commissione mentre invece nel caso di donne il cui crimine fosse stato ritenuto intenzionale ma non caratterizzato da circostanze aggravanti perché commesso al di fuori della famiglia e commesso appunto in modo più palese con un'arma in mano e non tramite un veleno la condanna è quella alla decapitazione quindi il fattore di genere pare passare in secondo piano rispetto a circostanze quali la premeditazione e la proditorietà e infatti le stesse circostanze aggravanti erano considerate anche per gli uomini e anche in questo caso nelle fonti si trovano esempi di avvelenatori o assassini su commissione maschi che vengono condannati a pene più atroci rispetto al dettato statutario per esempio a rogo o all'inflizione di pene afflittive accessorie prima della messa a morte allo stesso tempo tuttavia non va perso di vista come queste circostanze aggravanti previste dalla prassi giudiziaria fossero strettamente legate non solo a nozioni derivate dal portato romano canonico ma anche a norme sociali dalla forte dimensione di genere infatti in tutta l'Europa occidentale medievale si può parlare di una vera e propria cultura della vendetta che era portatrice di una vera e propria etica dell'uccidere secondo cui negli scontri tra i nemici pubblici e di solito questi nemici pubblici erano degli uomini bisognava rispettare quelle che sono state definite le regole del fair play e su queste basi le risse in piazza o le uccisioni per vendetta compiute alla luce del sole e con un'arma in pugno anche se vietate dagli statuti godevano di una tolleranza sociale molto superiore a quella di azioni violente compiute in modo clandestino o tramite il coinvolgimento di complici e questi comportamenti invece erano considerati spesso come stereotipicamente femminili proprio in quanto opposti all'onore come un valore maschile per eccellenza ovviamente nella documentazione causato oggi non è possibile verificare quali strategie retoriche gli omicidi e le omicidi adoperassero per cercare di dimostrare la non intenzionalità delle loro azioni e se fossero diverse in base al genere però è plausibile pensare che per un uomo fosse più facile sostenere di non aver voluto infliggere ferite mortali nel corso di una rissa ed essere creduto rispetto ad una donna che non doveva essere coinvolta in una rissa in primo luogo e questo potrebbe spiegare la differenza nelle proporzioni tra pene pecuniari e fisiche nel campione che ho presentato quindi per concludere gli statuti dei comuni italiani e la dottrina giuridica dell'Europa medievale non sembrano aver dato un ruolo primario al fattore di genere nel determinare quali condanni infliggere ai colpevoli di omicidio ma anzi sembrano aver sottolineato la necessità di preservare un'uguaglianza di trattamento tra colpevoli uomini e donne tuttavia anche in assenza di leggi esplicitamente misogine a riguardo non vuol dire che il peso delle norme sociali di una società patriarcale naturalmente come quella medievale non abbia avuto un'influenza nel determinare gli esiti dei processi dell'epoca per fare un paragone con la contemporaneità che forse è un po' azzardato l'attivista Michelle Alexander nel suo The New Jim Crow ha dimostrato come negli Stati Uniti leggi apertamente egualitarie dal punto di vista razziale convivano con politiche di giustizia criminale e atteggiamenti socioculturali che sfavoriscono nettamente la popolazione di colore e come nel caso analizzato da Alexander anche per capire le disparità nel punire la violenza maschile e femminile nel basso medioevo italiano pare che la strada migliore per riuscire ad apprezzare appieno la complessità del fenomeno sia quella di combinare la dimensione della storia socioculturale con quella della storia del diritto e con questo concluso vi ringrazio tantissimo per l'attenzione grazie a te Lidia io mi autocensuro e evito come dire quello che d'emblemi verrebbe cioè di di commentare in qualche modo questo come mi immagino i successivi interventi perché non voglio non voglio occupare inutilmente il tempo e sottrarlo sottrarlo al resto quindi seguo seguo ragioneristicamente il programma sperando appunto che poi queste cose si possano riprendere tutte alla fine e do la parola alla amica Simona Fici Simona è docente di storia del diritto medievale e moderno all'Università di Palermo è stata la presidentessa della società italiana delle storiche che tra l'altro ha dato appunto il patrocinio al nostro al nostro seminario la presidentessa attuale Raffaella Sarti che ringrazio approfitto per ringraziare in questa occasione Simona ha lavorato molto sulla sulle figure femminili e in particolare sulla condizione giuridica della donna e su storie di giustizia e criminalità proprio con attenzione al tema della violenza in età moderna l'ho citata all'inizio come una delle due curatrici del volume di Viella la violenza contro le donne nella storia Simona lavora anche sulle sulle forme di avvelenamento appunto tipico crimine femminile e il titolo del suo intervento oggi è considerazioni sulla violenza delle donne in età moderna le fonti la costruzione giuridica e le narrazioni Simona grazie grazie Anna Stella allora condivido il mio powerpoint spero che vediate bene vado subito alla presentazione allora cercherò di non essere lunga il mio obiettivo quindi intanto ti ringrazio molto di questo invito e ti ringrazio anche dell'entusiasmo con cui hai riunito questo gruppo di ricerca mi sembra sia molto incoraggiante e molto interessante lavorare insieme quindi un sentito ringraziamento allora questo è il piano della mia comunicazione che è un po' come dire l'ossatura poi di ciò che presenterò invece in forma scritta e quindi alcuni assi su cui possiamo muoverci per studiare il fenomeno della violenza femminile nella storia dunque la costruzione nelle fonti per consentire l'individuazione della delle manifestazioni di violenza abbiamo visto prima un esempio molto interessante di come appunto le fonti ci permettono di avvicinare queste esperienze del passato ma diciamo valutazione del modo in cui la fonte è costruita per il superamento di quei meccanismi di occultamento e di negazione di cui si è già si è già parlato secondo asse o secondo e terzo asse le forme di legittimazione della violenza femminile e le forme di rappresentazione della stessa a volte sono diciamo vanno vanno di pari passo questi due aspetti perché abbiamo molte fonti in cui la violenza delle donne è autorappresentata o è raccontata e attraverso queste narrazioni certamente ci muoviamo sul crinale tra legittimazione e cioè tra legittimità riconoscimento di una legittimità e anche invece no di un precipitato proprio nella criminalità o nella o nella invece riprovazione sociale altro asse che a me è molto molto caro che ritengo molto importante è la forza e la violenza come idiomi dell'azione questo ci porta a stabilire un rapporto molto forte molto stretto con i contesti storici per cui i discorsi non possono essere sviluppati in forma generale per evitare quindi la genericità è opportuno sempre diciamo che riconduciamo le nostre osservazioni a quelli che sono contesti definiti dal punto di vista geografico e storico e poi direi altro tema a me molto caro quelli che sono i modelli femminili presenti in determinate culture quindi in una cultura adatta quella dei contesti a cui facevo riferimento prima modelli femminili di incentivazione o di dissuasione all'uso della forza e della violenza quindi come vedete un quadro estremamente ricco che io qui toccherò in modo molto molto puntuale ma che è appunto come dicevo l'ossatura poi della mia ricostruzione qui abbiamo il libro già citato uno dei primi quello del 96 proprio in cui Arlette Parge e Cecil Doffin affrontano il tema quindi la violenza come ambito disciplinare la violenza delle donne come ambito disciplinare ci porta all'incrocio tra percorsi storiografici che sono quelli della storia della criminalità della storia della violenza interpersonale della storia di genere ma incrociano anche temi molto importanti come la storia della famiglia e la storia del potere ma abbiamo visto anche che probabilmente cioè che probabilmente no che sicuramente anche la storia del diritto e anche la storia diciamo del pensiero politico e religioso hanno naturalmente una fortissima attinenza qui abbiamo appunto diciamo delle immagini di queste riste tra donne non entro nel merito sono sono raffigurazioni ottocentesche della Roma ottocentesca di Pinelli mi servono solo per e quindi sono cariche anche di tutto un discorso che viene fatto sulla Roma dell'ottocento sui bulli e quindi insomma si è già parlato delle zuffe tra le donne tra donne e diciamo mi serve questa questa immagine semplicemente per per ricordare che la violenza e la criminalità diciamo la violenza delle donne è solamente o la violenza in generale è solamente in parte assimilabile alla criminalità io diciamo faccio con resistenza con molta cautela questa assimilazione della violenza come tutta interna a un contesto di definitorio di criminalità perché conserva invece la violenza ampie zone che nel caso degli uomini potremmo definire zone franche e zone negoziabili prima abbiamo sentito degli esempi ma penso anche a quello che in età moderna sono i duelli sono i cartelli di sfida sono delle pratiche sociali in cui questa forma di violenza interpersonale è assolutamente accettata può essere controllata dalle istituzioni questo è tutto un discorso molto lungo che attiene proprio alla costruzione dell'identità di genere maschile e non affronto ma che invece qui tornando appunto a queste zone eh zone intermedie nel caso delle donne certamente sono zone di ombra e sono zone di ricercata legittimazione cioè che richiedono un lavorio di legittimazione molto più impegnativo eh di quello che invece è per per gli uomini scusate la genericità però allora qui abbiamo delle forme di eh diciamo uso della forza in chiave correttiva che ci danno proprio l'idea di come appunto in determinati contesti e qui eh diciamo la prima immagine è un'immagine che vede un una l'esercizio di una violenza di una violenza correttiva eh sia nei confronti dei figli sia nei confronti della moglie e la frase eh sottostante dice chi ama bene colpisce punisce bene chi ama molto insomma punisce molto ecco questo legame tra eh affetto diciamo avere a cuore come dire eh la i propri cari e anche quindi esercitare queste forme di indirizzo diciamo così correttivo la seconda qui stiamo nell'ottocento un po' più lontano rispetto al periodo di cui io mi occupo ma insomma il i valori sono gli stessi e poi invece un quadro di goia che rappresenta appunto una eh un'aula scolastica in cui il maestro come vedete dall'immagine sta eseguendo una punizione corporale allora quando parlavo di contesti di uso della forza e poi di confine tra forza legittima e invece travalicamento in quella che è la violenza dobbiamo appunto avere molto ben presente quello che per per diciamo determinate società culture organizzazione della famiglia patriarcale eccetera è l'impiego in questo naturalmente entrano anche le donne allora per esempio eh perché entrano entrano perché sono anche madri di famiglia quindi diciamo hanno responsabilità nei confronti delle domestiche e dei domestici ma soprattutto delle domestiche chiaramente e dei figli allora leggevo una ponte che poi userò più ampiamente naturalmente nel nel saggio diciamo per Anna Stella e che sono i referti medici i referti medici di romani di di seicento in cui appunto ci sono sono registrate le visite e le medicazioni diciamo le visite le medicazioni fatte o in ospedale o dai barbieri chirurghi in cui diciamo ci sono sia possono esserci sia casi come effettivamente ho incontrato proprio l'altro giorno nel registro che stavo guardando di un giovane che dice è stato mio padre che mi ha colpito col bastone e poi troviamo anche casi di bambini e bambine e lì è molto interessante perché non c'è un'assunzione di responsabilità da parte della del padre o della madre ma ho trovato che le madri giurano che si è trattato di un incidente allora questa esigenza di giurare che si è trattato di un incidente può essere può essere la spia invece di una attenzione anche a certi comportamenti abusivi nell'ambito delle famiglie allora veniamo ai tanto diciamo ai dati così così sempre ricercati e sono sarò molto rapida per quanto riguarda i tassi di omicidio messi cioè resi disponibili da ricerche di tipo europeo sui lunghi trend cioè i trend di lunga durata della violenza interpersonale in modo particolare dell'omicidio abbiamo questi dati che ci dicono che tra il 10 e il 12% degli omicidi compiuti in Europa occidentale tra il 300 e l'800 se non sbaglio 800 o inizio 900 il 10 12% sono compiuti da donne e non si va mai oltre il 15 capite bene la difficoltà di mettere insieme dati dati diciamo statistici raccolti in contesti diversi in momenti diversi in forme diverse però diciamo questo è veramente un po' così un assaggio a cui io stessa do un valore molto indicativo però sappiamo per esempio che tra 1575 e 1604 il 9,4% dei casi di omicidio giudicati in appello dal Parlamento di Parigi hanno come imputato una donna quindi vedete che ci allineiamo questo stesso in questi stesso diciamo periodo quindi in età moderna invece i tassi di reati contro la proprietà questo anche qui sono dati indicativi vanno tra oscillano tra il 20 e il 50% a seconda dei luoghi la cosa che mi sembra interessante di questi dati su cui non mi soffermo e non vi do ulteriori numeri è che è stata rilevata una differenza tra nubili e vedove da una parte che sono imputate soprattutto di reati contro la proprietà e invece le coniugate che sono imputate soprattutto di reati contro la persona quindi anche qui non possiamo parlare di donne non possiamo parlare di donne perché poi diciamo è invece importante andare a diciamo ad affinare il nostro sguardo anche identificando proprio i soggetti e certamente ci sono aspettative sociali e un ricorso alla violenza che è differenziato per genere questo appare molto molto chiaramente e tuttavia e tuttavia come sappiamo bene quindi non sto dicendo niente di di sorprendente a mano a mano che scendiamo cioè utilizziamo fonti di tribunali diciamo più prossimi al ai soggetti e guardiamo non tanto al alle forme di violenza che si sono concluse con la morte della vittima o con una effusione di sangue importante quindi con lesioni importanti la presenza delle donne aumenta quindi diciamo se consideriamo violenza cioè offese secondo il linguaggio dell'età moderna sia atti verbali come insulti e minacce sia atti di diciamo di lesioni all'integrità fisica attentati all'integrità fisica dei soggetti senza effusione di sangue o con effusione di sangue abbiamo dei risultati diversi ora però noi sappiamo che la gerarchia delle rilevanze delle offese in età moderna non è necessariamente la nostra quindi diciamo l'insulto l'oppesa diciamo l'attentato all'onore con un atto verbale può essere considerato estremamente grave soprattutto se hai danni di una donna quindi le offese per esempio che avvengono platealmente sulla piazza del mercato possono essere considerate molto più gravi di invece diciamo atti di violenza fisica subiti diciamo di nascosto subiti diciamo nel riparo della casa quindi dobbiamo anche sempre tenere conto di quello che è veramente la percezione dell'epoca di ciò che è un attentato di quello che è un'oppesa di quello che è un maltrattamento e su questo però non mi non mi soffermo ci sono anche degli studi molto interessanti su quelli che sono i metodi impiegati per l'esercizio di questa violenza e quindi per esempio il fatto che molto spesso le donne sono affiancate quando si tratta di compiere atti gravi come omicidi eccetera eccetera da partner maschili quindi diciamo anche questo conta magari sono le mandanti di un atto non compiono violenza in prima persona ma diciamo questo non le non le rende come dire meno prossime diciamo così all'uso del meno come dire convinte di dover ricorrere alla violenza ecco e anche gli strumenti gli strumenti per cui naturalmente diciamo porta non voglio dire che non ci sono armi da fuoco che non ci sono armi bianche però certamente per esempio gli uomini vanno in giro con la spada e le donne e le donne no quindi i dati che abbiamo sono che molto spesso questa violenza è compiuta con a mani nude e o con strumenti occasionali questo tra l'altro diciamo anche per alcuni contesti soprattutto contesti rurali penso al nord Europa gli studi diciamo così sul nord Europa hanno messo in luce come non si possa imputare non si possa considerare che le donne sono fisicamente più deboli degli uomini e questo diciamo non può essere questa diversità fisica di forza fisica non può essere considerata effettivamente un deterrente rispetto all'esercizio della violenza allora qui entriamo in un discorso un po' diverso quindi la abbandono i dati diciamo tutta questa analisi così della violenza esperita per entrare in un territorio che è un po' quello delle narrazioni della legittimazione della violenza perché effettivamente diciamo la violenza femminile soprattutto se esercitata come ha già detto Anna Stella nei confronti di un uomo viene e del marito viene considerata più come dire una forma di sovvertimento dell'ordine familiare una forma di tradimento sappiamo benissimo che nel diritto inglese l'omicidio del marito è considerato piccolo tradimento quindi non è considerato omicidio semplice quindi questa dimensione della sovversione del 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 tradimento dell'attentato all'autorità che è ciò che in qualche modo colpisce anche proprio gli uomini è ciò che viene temuto di più è ciò che viene controllato di più allora qui dico semplicemente che io resto sempre molto molto stupefatta di quanta poca di quante poca di quante poche uccisioni di mariti ci sono perché effettivamente rispetto a la situazione di subalternità in cui queste in cui le donne diciamo in età moderna ma il discorso chiaramente cronologicamente più ampio sono tenute c'è un lavorio incessante di addomesticazione di addomesticamento di queste donne a comportarsi in modo disciplinato a essere obbedienti cioè c'è un dispiego di veramente strumenti che vanno dalle predicazioni al diritto insomma eh i generi sono vari proprio per tenerle a bada mh e sono donne che eh diciamo sperimentano costantemente il rischio di essere esposte a violenza intesa come violenza correttiva quindi diciamo è molto diversa la loro esperienza della violenza da quella degli uomini che naturalmente ci sono contesti di alto tasso di violenza interpersonale to cure ma che non hanno questo stesso posizionamento rispetto alla violenza quindi questo mh per dire non voglio dire che la violenza femminile è solo una violenza di ritorno è solo una violenza di ritorsione però voglio dire che non è esattamente non sono esattamente nella stessa posizione sono una posizione diversa che le rende quindi che diciamo rende anche loro familiare proprio la violenza mh e quindi eh quello che ci dobbiamo chiedere è se la violenza è uno strumento se il ricorso alla violenza è uno strumento che cosa succede perché non ci siano altri strumenti praticabili per ottenere quei risultati questo nei casi di avvelenamento che io ho studiato viene fuori molto bene cioè è veramente come dire una o una opzione in mezzo ad altre opzioni che però come si si evince molto bene eh dal dal dall'analisi del caso che ho fatto sono queste altre opzioni cioè semplicemente pensare di potersi di allontanare dal marito di poter diciamo così ehm allentare la relazione coniugale sono difficilissime per le donne sono più difficili per le donne che per gli uomini mh che hanno tutto un ventaglio di di possibilità dall'andarsene al rinchiudere la moglie e così via quindi diciamo tutti elementi di un puzzle che vanno tenuti vanno tenuti presente quindi tra la dimensione trasgressiva e sovversiva prevale questo vado avanti perché diciamo ne ho già parlato allora c'è tutto un tema molto forte per il per l'età moderna che è quella della competizione tra uomini e donne in quella che eh Frances Dolan ha definito o diciamo il matrimonio a una sola stanza cioè c'è un unico un unico soggetto che può comandare in famiglia e quindi c'è una persistente dimensione conflittuale e antagonistica della relazione coniugale che è veicolata da 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 mezzi i più vari eh prima ho parlato dei predicatori che naturalmente su questo stanno molto attenti ma anche come si vede da questo genere di letteratura di strada di letteratura popolare come la canzonetta curiosa dove si intende la guerra contrasto lite e questione tra marito e moglie mh e diciamo questo è un esempio di quella che è la più generale querelle de sex eccola qua che vedete raffigurata qui abbiamo due raffigurazioni ehm che sono quelle appunto della querelle de sex che è proprio un un diciamo filone di riflessione di riflessione sulla storia della diciamo sulla famiglia sul matrimonio ma anche proprio sulle relazioni di potere all'interno della sfera domestica molto importante come ho detto per l'età moderna e diciamo che si accompagna a quella che è la disputa per i pantaloni le debatte la culotte c'è naturalmente anche la versione inglese e ehm questa disputa è stata benissimo studiata da Natalie Zemond Davis da Ottavia Nicoli cioè appunto anche qui non sto dicendo nulla di particolarmente nuovo però sto provando a mettere insieme tutta una serie di pezzi soprattutto per tentare di costruire insieme quella che è la cultura della violenza di uno specifico contesto qui la vediamo nella doppia in una doppia versione quella che è proprio la lotta per le braghe tra marito e moglie e invece la versione che come vedete qui in questo rarissimo quadro italiano quindi questa rarissima ehm raffigurazione del tema rarissima perché italiana le donne eh lottano tra di loro siamo sempre è sempre una declinazione della lotta per le braghe come vedete questo rosso al centro sono i pantaloni che significa che lottano per gli attributi maschili lottano per il maschio a cui appunto in questo caso hanno tolto le braghe quindi vedete che anche la conflittualità diciamo ha sfumature e ambiguità molto molto forti questo è un tema molto importante molto importante per un discorso che andrò subito a fare ehm cioè andrò a fare tra un attimo perché quello che mi interessa è ricordare che eh diciamo la legittimazione i racconti i resoconti le forme di di produzione discorsiva attorno alla violenza delle donne si eh si appuntano in fonti si ritrovano in fonti diverse molto diverse per cui abbiamo per esempio i processi criminali in cui le donne raccontano racconta o anche gli uomini ovviamente raccontano quella che è la violenza ma siamo in un contesto eh di processo ancora in una fase in cui bisogna arrivare come dire alla sentenza diversi sono i processi per separazione della coppia che è un altro genere di ponte sempre processuale ma di disegno anche proprio pensando agli obiettivi delle parti che sono molto diversi da quelli criminali in cui appunto c'è magari la procedura d'ufficio non solo la querela racconti diversi che sono quelli prodotti all'indomani di una condanna per chiedere la grazia che sono quelli che ha studiato appunto Natalie Zemon Davis in questo libro che per noi è storie d'archivio e altro genere letterario è quello della scusate dei discorsi sul patipolo che è una tradizione tipicamente inglese quindi altro genere letterario altra altra fonte e da ultimo appunto la letteratura di strada con un ventaglio molto ampio di diciamo di autori e di pubblici perché questo l'esperienza francese ci da veramente ci offre veramente dal canard agli affaires insomma diciamo da questo punto di vista la letteratura francese è forse quella che più ha presenta una varietà di tipologie di racconti di storie di crimini di resoconti di processi eccetera quindi a seconda della fonte che scegliamo abbiamo dei risultati diversi e io per esempio studiando appunto queste avveletunatrici romane ho utilizzato entram ho utilizzato tutte queste fonti e quindi entrano i discorsi entrano in risonanza con varianti anche proprio nella restituzione nella narrazione nella legittimazione diversi qui abbiamo scusate vado un po' avanti qui abbiamo alcuni esempi di questa letteratura di strada per casi italiani quindi per esempio il famoso caso di Prudenza Anconetana queste sono donne di Prudenza Anconetana è un caso reale della mi sembra 1549 se non sbaglio che poi viene invece diciamo così trasposto in una forma di lamento qui addirittura abbiamo una versione ottocentesca riproposta ancora stampata ancora nell'ottocento è una avvelenatrice che per amore diciamo così del suo amante avvelena avvelena il marito e invece questo appunto questi sono altri casi il caso di Giovanna di Giovanna Vicentina altra uxoricida e poi le avvelenatrice appunto romane della metà del seicento e quindi vedete questa letteratura circola allora la questione non mi sembra tanto importante qui diciamo presentare questo genere di testi che sono stati anche molto bene studiati ma quello che a me interessa è capire quanto questa letteratura influenza i comportamenti cioè quanto poi le donne che ascoltavano i cantastori le donne e gli uomini ma insomma parliamo di donne quindi le donne che ascoltavano i cantastori e che queste storie cantavano recitavano in piazza eccetera o che guardavano queste illustrazioni o che leggevano questi fogli così di veramente di consumo rapidissimo potevano essere diciamo potevano sviluppare una riflessione diciamo così e anche in qualche modo trarre ispirazione su questo non mi soffermo ma per esempio un tema molto interessante sono le fantasie di morte che coltivano le mogli nei confronti dei mariti di cui abbiamo tracce per cui queste pensano sempre se potessi lo ammazzerei e per questo mi stupisco di quante poche lo hanno fatto perché invece era un leitmotiv molto forte negli scambi nelle conversazioni tra le donne e qui ultima questione spero di non aver esporato troppo l'altro tema che mi interessa molto è quello dei modelli abbiamo visto prima quelle le criminali cioè quelle che effettivamente i mariti gli hanno ammazzati o di cui si raccontano le gesta di 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 viricidio ma abbiamo anche dei modelli invece di donne potenti forti modelli potremmo dire positivi o sostanzialmente positivi che le che usano la forza e che quindi diciamo che usano la forza che usano anche la violenza poi abbiamo diciamo appunto il grande ciclo delle delle donne forti e su cui appunto non non mi soffermo perché si accompagna naturalmente a quelli a quei filoni che ho detto della lotta delle braghe della querelle sex eccetera e questo ci sono studi francesi molto interessanti e poi il mito delle amazzoni che è tema forse meno presente nell'iconografia ma tema formidabile per esempio nel teatro barocco nel teatro musicale barocco e quindi anche quello è un percorso che va tenuto presente che va saputo diciamo di questa circolazione di questi modelli e poi appunto violenza come idioma dell'azione un modello fortissimo che è quello di Giuditta e perché è un modello fortissimo quello vediamo appunto nella sua versione di donna forte di eroina e poi nella versione appunto di Artemisia Gentileschi voi sapete che a Roma in questo momento c'è una mossa importante su questo tema ho scelto questo quadro perché se guardate attentamente le due la lei la Giuditta e la la serva praticamente hanno quasi lo stesso volto quindi c'è questo sdoppiamento questo e questo concorso di donne nella realizzazione di questo che è poi un omicidio a fin di bene allora è anche interessante secondo me esplorare quanto questo questa figura che è una figura positiva ma che conserva in sé un elemento di ambiguità perché Giuditta che è protagonista proprio della della scena letteraria artistica iconografica del seicento da quando alla fine del cinquecento il libro di Giuditta entra nel canone biblico riconosciuto quindi c'è da questo punto di vista uno sviluppo un'attenzione nuova è un tema diciamo è un tema molto molto interessante proprio per questa ambivalenza è possibile che anche le donne ricorrano in certe circostanze alla violenza e lo facciano diciamo lecitamente è possibile che ci sia un riconoscimento sociale della violenza femminile e se sì in che termini e su questo mi fermo vorrei solo dire una una cosa voi forse mi direte ma questo genere di questo genere di immagine sono immagini diciamo che circolavano relativamente poco che circolavano pubblici tra pubblici molto precisi ora è vero per esempio noi sappiamo che la giuditta di Caravaggio era tenuta nascosta Ottavio Costa non la faceva vedere proprio perché c'era quest'altra e tuttavia diciamo c'è un palazzo dietro Piazza Navona che ha tutta la facciata affrescata con la storia di Giuditte Oloferme quindi anche come dire persone che passavano per andare al grande mercato di Piazza Navona tra Piazza Navona il mercato di Piazza Navona nel mercato di Campo dei Fiori quindi potevano diciamo alzando gli occhi vedere quindi tutti vede tutti e tutte vedere la storia di Giuditta e Oloferme e qui mi fermo vi ringrazio e ho terminato grazie grazie Simona hai messo tantissima tantissima roba in sul sul tavolo bello davvero c'è c'è da lavorarci e da da riflettere davvero grazie io passo la parola a Roberta Falcetta Roberta Falcetta è una è una dottoranda una nostra dottoranda una mia dottoranda permettetemi questa 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 visione un po' possessiva ma lo dico veramente con con piacere Roberta sta sta intrapreso una tesi di dottorato proprio su queste questioni in particolare per l'età moderna sulle sulla costruzione e la la percezione narrazione produzione evidentemente dell'ingiuria quindi forme di di hate speech devo dire che io le sono anche molto grata perché gran parte della costruzione di questa di questa operazione cantieristica che noi abbiamo intrapreso io la devo la devo a lei quindi adesso ti ti cedo la parola Roberta con grande piacere grazie professoressa buongiorno a tutti e tutte io condivido brevissimamente giusto così lo schermo che dovreste vedere dunque io oggi vorrei dare il mio contributo davvero entrando proprio appieno nella dimensione del cantiere poggiando innanzitutto su questo tavolo di discussione di tavolo di discussione virtuale se vogliamo definirlo così due domande portanti mi chiedo insieme a voi insomma innanzitutto in che misura l'interazione verbale possa essere considerata una forma di violenza e in secondo luogo forse è il caso di chiederci anche di cosa parliamo quando parliamo di violenza verbale e di rapporti di genere ciò che ci interessa in particolare è l'uso della parola e quindi lo sviluppo di un'interazione orale violenta come arma e quindi come strumento non solo di aggressione individuale o collettiva ma anche di ridefinizione dei rapporti sociali e in particolare dei rapporti di genere specifico che parliamo di interazione orale perché saprete bene che cosa diversa è certamente guardare a tutte quelle manifestazioni della parola scritta come forma esplicita di violenza ne costituiscono un esempio i cosiddetti libelli infamanti su cui peraltro esistono degli studi importantissimi proprio per l'Italia moderna è argomento sul quale peraltro si aprirebbe un altro capitolo certamente molto interessante ma diciamo più propriamente legato alla cultura scritta e qui tocca fare sicuramente un'altra precisazione di metodo perché c'è da dire anche che il fatto che poi l'interazione orale violenta giunga a noi filtrata delle fonti scritte è peraltro un elemento certamente non di poco conto su cui sicuramente toccherà ritornare ora prendiamo di petto come si suol dire questo oggetto di studio e osserviamolo in una realtà abbastanza definita che è l'Europa moderna in cui tra metà cinquecento e metà settecento a voler mantenere più o meno una periodizzazione la parola violenta diviene oggetto non solamente di disciplinamento e repressione ma è anche al centro di tutta una serie di rappresentazioni letterarie e iconografiche in cui questa e in particolare la parola come arma impiegata dalle donne si presenta come soggetto satirico e quindi a un certo punto anche inevitabilmente stereotipato come già si anticipava siamo in un contesto in cui l'immagine della donna che inveisce contro i suoi compaesani in particolare contro le sue concittadine lo anticipava già Simona Pici prima questa dimensione della chereltra donne in spazi soprattutto come la pubblica piazza la strada pubblica o il vico e quindi questo vicinato che è stato definito penso ad esempio agli studi su Digione come entità fisica e morale è un'immagine certamente molto familiare che talvolta si accompagna alla violenza fisica e che non sempre attira l'attenzione delle istituzioni ma certamente porta alla creazione di una serie di modelli stereotipati e anche di un modello scenico che conquisterà persino la commedia ora il tipo della bisbetica domata questa di Shakespeareana memoria quest'intrattabile Kate detta proprio la bisbetica il cui caratteraccio peraltro la costringerà proprio così si chiude poi la commedia shakespeariana a fare professione di obbedienza per tutelare il menaggio coniugale ecco questa figura mette in scena un conflitto che molto spesso è stato definito proprio banale dove per banale intendiamo il fatto che si tratti di un conflitto privo di straordinarietà è una figura che in fin dei conti in un certo punto è ridicola far ridere diventa molto facilmente non solo un tipo letterario ma anche uno stereotipo culturale ora non ci soffermiamo su questo ma proprio la commedia shespiriana The Teaming of the Shrew dalla sua prima messa in scena alla fine del Cinquecento in poi è stata oggetto di numerose rappresentazioni e numerosi adattamenti fino in buona sostanza credo al al 1998 per penso alle più note rappresentazioni cinematografiche questo credo sia abbastanza significativo guai però diciamo a smarrirsi nel ventunesimo secolo quindi ritorniamo al sicuro nell'antico regime la protagonista della commedia shespiriana Kate la bisbetica è una figura dell'Italia rinascimentale un contesto che oltre ad aver attratto insomma evidentemente il commediografo inglese ha anche attirato l'attenzione di numerosi storici inglesi storici dell'area anglosassone diciamo così tra cui storici del calibro di ad esempio Elisabeth e Thomas Cohen i quali studiando proprio la cultura italiana dell'onore del sedicesimo secolo hanno ritenuto che i linguaggi gesti espressi da questa cultura fossero così pervasivi così persuasivi al punto tale ed azzardare la teorizzazione di una liturgia laica dell'affronto secondo questa teoria lo spazio pubblico viene scandito da una ritualità basata su un mosaico complesso ma coerente di pensieri di parole di azioni che compongono buona parte della vita sociale del rinascimento italiano perché vi dico questo perché l'aver posto l'accento sul rapporto tra espressione verbale e cultura dell'onore ha evidentemente segnato e continua a segnare la nostra riflessione sulla violenza verbale e a questo punto mi pare evidente forse non ci sarebbe neanche bisogno di specificarlo che qui non si tratta più attenzione non si tratta più di andare a guardare semplicemente quanto le figure femminili siano presenti nello spazio pubblico quanto abbiano la capacità di prendere la parola peraltro una considerazione che chiaramente non possiamo porre in termini assoluti o ancora quanto lo stile comunicativo maschile diverga dallo stile comunicativo femminile e quindi il nostro obiettivo non sarà circoscrivere da un lato un'interazione violenta maschile e dall'altro un'interazione violenta femminile penso a quelli che la sociolinguistica ha definito i cosiddetti approcci essenzialisti che ormai sono stati ampiamente superati sul piano storiografico peraltro e molto di più perché si tratta innanzitutto di compiere uno studio sul linguaggio come performance e rappresentazione sociale e questa strada ce l'aveva già peraltro spianata Peter Burke nei suoi studi sulla vita quotidiana nell'Italia moderna e in particolare guardando proprio alla violenza verbale agita dalle donne cosa ci interessa ci interessa rivelare tutte quelle strategie discorsive messe in atto in differenti contesti e poi l'influenza che le norme di genere in vigore hanno su queste strategie capirete bene che l'affare non è di poco conto innanzitutto perché già parlare di violenza in età moderna richiede una certa problematizzazione così come la richiederebbe parlare del rapporto tra sfira pubblica e spazio privato che rispetto a quanto siamo abituati a pensare noi uomini e donne del 2022 non è in età moderna uno spazio ecco così con un limine così netto diciamola così ora domanda come possiamo studiare questi rapporti senza banalizzare e stereotipare interazione verbale violenta laddove la violenza verbale di per sé racchiude storicamente già tutta una pluralità di manifestazioni che talvolta si sovrappongono anche per farvi diciamo per mettere qui diciamo in evidenza le forme più comuni pensiamo all'insulto in pubblica piazza allo scontro verbale all'interno dei contesti familiari o alla parola violenta utilizzata a scopo di diffamazione e di inganno e nella maggior parte dei casi noi riusciamo ad analizzare questi contrasti perché in qualche modo vengono portati al centro dell'attenzione pubblica la fonte che finora è stata maggiormente utilizzata per studiare la violenza verbale agita dalle donne è proprio la fonte giudiziaria che già qui diciamo cominciano a nascere i problemi fa riferimento a un processo di criminalizzazione della violenza verbale femminile e allora qui la domanda viene spontanea si è sempre ritenuto necessario domare la bisbetica la risposta evidentemente no questo accade non sempre non ovunque talvolta in maniera intermittente anzi lo dicevamo già in precedenza molto spesso una donna che in età moderna si serve della parola come strumento di aggressione non è considerata come pericolosa a priori soprattutto nel caso in cui all'aggressione verbale non si affiancano altre forme di violenza quali possono essere ad esempio forme di maltrattamenti o minacce a mano armata come spesso capita di trovare all'interno dei fascicoli processuali certo è che l'immagine della bisbetica domata come già vi accennavo e quindi proprio il fatto che si possa materialmente gestire tramite la punizione corporale e la pubblica denuncia una delle evidenti espressioni diciamo stando al pensiero tradizionale dell'impulsività e dell'irrazionalità femminile questo ha non solo una sua influenza sul piano giuridico questa è una nota diciamo che vi lascio qui e sulla quale ora non ho modo di soffermarmi ma ne potremo discutere ma ha anche un fortissimo impatto nell'immaginario collettivo potremmo dire con sostanza al 500 fino a oggi e teniamo conto lo diciamo a passant che nelle numerose stampe penso ai libretti ma anche alle incisioni che circolano si diffondono singolarmente in Europa moderna e che tendono e che si tendono in sostanza a delineare molto spesso la cosiddetta ricetta per il matrimonio perfetto tra le caratteristiche che giustificano molto spesso la violenza domestica sulle donne c'è ad esempio proprio la loquacità il parlare troppo che può destabilizzare non solo il matrimonio ma anche le relazioni sociali e anche qui siamo in un periodo in cui queste due sfere come vi dicevo non sono non possiamo considerarle come nettamente separate ora in Gran Bretagna in area tedesca numerose sono le fonti non sono secondarie ma penso ai libelli giuridici alle fonti giudiziarie che testimoniano l'uso di uno strumento punitivo molto noto anche sul piano letterario come la Scots Bridal italianizzata credo venga qualcosa tipo Briglia della Comare impiegata pare prevalentemente in area scozzese e tedesca pare addirittura che un esemplare sia conservato in Italia presso il Museo Criminologico di Roma ma questo non l'ho diciamo personalmente appurato al di là di quanto poi realmente questi strumenti fossero utilizzati per punire la violenza verbale e in particolare per punire la violenza sulle donne e al di là questo ricordiamocelo sempre soprattutto quando visitiamo o ci ritroviamo di fronte ai cosiddetti musei della tortura al di là di quanto poi realmente questi strumenti siano diciamo storicamente esistiti perché non sappiamo che insomma molto spesso si tratta di riproduzioni creazioni ottonovecentesche certo è che si tratta di uno strumento intorno al quale si è detto e si continua a dire di tutto tanto che inespettatamente ne ritroviamo anche una traccia all'interno della riflessione gramsciana nei quadri del carcere e questo ci fa capire quanto alcune immagini possano essere così pervasive come accennavo sul piano delle fonti i processi giudiziari sono i nostri primi interlocutori non è detto che siano gli unici questo è chiaro e per ciò che riguarda l'Italia moderna in particolare e mi avvio le conclusioni le uniche fonti che sono state interrogate specificatamente su queste questioni quindi diciamo non parliamo genericamente degli studi sulla violenza femminile ma sto guardando particolarmente alla violenza verbale sono i processi giudiziari prodotti dal noto tribunale del Torone di Bologna che peraltro sappiamo che è da anni al cuore degli studi sulla criminalità femminile in età moderna e medievale credo che poi ritornerà molto spesso diciamo all'interno di questi due giorni all'interno delle nostre interlocuzioni ma sappiamo che comunque numerosi sono i fondi penali che ci consentono di indagare gli interstizi della storia sociale personalmente ho cominciato a indagare le forme di violenza verbale femminile negli archivi del mezzogiorno e certamente se ne potrà diciamo riparlare se ne avremo l'occasione ed è proprio su questa riflessione che io vorrei lasciarvi perché abbiamo già accennato a quanto sia pericoloso se vogliamo studiare la violenza verbale orale filtrata dalle fonti scritte per ciò che riguarda i processi penali si tratta in fin dei conti sicuramente di una piccola traccia all'interno della quale non sempre è immediato riconoscere quella che Natalie Zemond Davis chiamava la differenza tra historical facts and fiction quindi tra la verità storica e la rappresentazione che a noi viene trasmessa tramite tutta una serie di dinamiche di negoziazione e ridefinizione dei ruoli sociali che atti come le testimonianze e le suppliche sono in grado di rovesciare o filtrare in maniera molto potente e quindi è il processo stesso che si presenta a noi nei suoi vari livelli di performatività è un po' una sorta di teatro nel teatro come nella commedia shakespeariana da cui siamo partiti in cui la solo apparente rigidità del processo istituzionale nasconde poi tutto un roviglio di conflitti sociali e di rappresentazioni culturali e quindi svelarne per citare Mark Bloch quelle false aree d'arcangelo e poi è questo in fin dei conti il ruolo degli storici e delle storie io vi ringrazio concluso e grazie per avermi seguito vast program avrebbe detto the goal grazie Roberta mi ancora una volta mi autocensuro e non e non commento riprendiamo riprendiamo tutto quanto alla fine e invece passo la parola a Silvano Montaldo Silvano Montaldo è professore di storia contemporanea a Torino all'Università di Torino e anche direttore scientifico del Museo di Antropologia Criminale Cessere Lombroso è l'altro suo diciamo versante scientifico e anche anche di impegno pubblico direi segretario del Comitato Torinese dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano e infatti la sua la sua attività anche degli ultimi anni si concentra da un lato appunto sulla storia della criminologia dell'eugenetica tanto in Italia quanto all'estero che sull'usi pubblici della memoria risorgimentale e uno degli ultimi lavori pubblicati che qui ci interessa particolarmente per Carocci proprio donne delinquenti il genere e la nascita della criminologia il titolo del suo intervento di oggi è la criminologia femminile nella la perdono la criminalità femminile nella nascita della criminologia da Ketelè all'ombroso ti do la parola Silvano grazie grazie Anastella grazie anche per la presentazione io vorrei parlare appunto di come nel dibattito ottocentesco avvenga la scoperta delle delle specificità della criminalità femminile devo dire che ho seguito con molto interesse chi mi ha preceduto perché ho scoperto passaggi questioni che nel lavorare sulla criminologia ottocentesca non avevo approfondito adeguatamente quello che avviene grosso modo tra gli anni venti e gli anni trenta dell'ottocento è una sorta di sintesi di quello che era avvenuto nei secoli precedenti nel senso che avviene una scoperta nel dibattito scientifico di certe tendenze di fondo che abbiamo di cui abbiamo avuto notizia dalle relatrici che mi hanno preceduto in particolare la profonda differenza di genere di fronte al al crimine credo che sia in questo momento tra appunto tra gli anni venti e trenta dell'ottocento che il dibattito pubblico si rende conto di questa profonda diversità come avviene questa scoperta avviene grazie alla pubblicazione a partire dal 1827 del Comte Generale dell'Amministrazione della Justizia il Comte rende conto dell'attività dei tribunali di tutta di tutto lo Stato francese la Francia cioè è il primo Stato al mondo che è in grado di pubblicare questi resoconti sull'attività dei tribunali che quindi permettono di avere un'idea non della ovviamente della realtà del del crimine ma almeno di come il crimine viene affrontato e represso da parte dei tribunali dello Stato poi altre nazioni lo faranno ma sta di fatto che la scoperta del diverso comportamento di uomini e donne di fronte alla giustizia avviene appunto rispetto alla Francia e sulla base di questi dati a trarre le somme sono uno statistico francese che ha lavorato alla raccolta di questi dati che André Michel Guerri e soprattutto un astronomo belga che è anche il più noto di questi scienziati sociali del primo ottocento che Adolphe tele è già in grado di trarre delle conclusioni su queste serie molto brevi appunto i dati del Comte si riferiscono vengono pubblicati dal 27 si riferiscono all'attività dei tribunali a partire dal 1825 e che tele è già in grado di dire in sostanza che c'è una costante nel crimine è proprio la presenza di queste costanti ciò che lo colpisce perché perché lui segue il dibattito tra i matematici sul calcolo delle probabilità sa che su grandi numeri sui comportamenti delle masse le scelte dei singoli si annullano e invece il 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 comportamento sociale assume delle caratteristiche che sono simili a quelle delle dei fenomeni naturali e quindi riesce a fare delle proiezioni in sostanza riesce a capire che anno dopo anno il crimine presenta delle costanti che si ripetono nel tempo due in particolari sono le costanti più significative e cioè la criminalità rispetto all'età e la criminalità rispetto al sesso rispetto all'età che si accorge che il sono soprattutto i giovani tra i 20 e 25 anni giovani maschi tra i 20 e 25 anni quelli che hanno la maggiore possibilità di incorrere nei rigori della giustizia nel corso dell'anno detta in altri termini l'individuo più pericoloso è il maschio adulto il giovane maschio mentre invece per quanto riguarda il genere c'è una profonda diversità tra uomini e donne una profonda diversità che Ketelet fissa a uno su una donna ogni quattro una donna ogni cinque accusati nei tribunali francesi inoltre la responsabilità delle donne è decisamente inferiore nel senso che i reati per cui sono accusate in genere sono meno gravi di quelli maschili Ketelet stabilisce in sostanza che solo gli infanticidi e gli aborti che all'epoca erano puniti puniti gravemente come omicidi potevano comportare la morte spesso però questo tipo di reato non veniva riconosciuto proprio perché ci si rendeva conto della eccessiva severità delle pene già nel dibattito degli anni venti questa cosa emerge chiaramente ebbene solo su infanticidi e aborti le donne superavano gli uomini in tutti gli altri comportamenti criminosi invece erano sempre gli uomini a avere quello che veniva definito il triste primato Ketelet si chiede il perché analizza appunto questi dati e scrive appunto un saggio in cui propone un tipo di risposta traduco ora ciò che fa sì che la tendenza criminale della donna sia di molto inferiore a quella dell'uomo e che esse soprattutto trattenuta dal sentimento della vergogna e del pudore per quanto riguarda il lato morale dal suo stato di dipendenza e dalle sue abitudini più domestiche per quanto riguarda le occasioni e dalla sua debolezza fisica per quel che riguarda la possibilità di compiere un'azione delituosa quello quello che è più interessante è che Ketelé ritiene sia necessario approfondire soltanto uno dei tre fattori e cioè quello della vita domestica non discute non entra in dettagli riguardo alla questione della forza fisica lo ritiene perché lo ritiene un dato evidente e quindi dà conto del fatto che sono pochissime le donne coinvolte in risse con omicidi cosa che invece spesso capita ai giovani maschi che compiono rapine sulle strade e così via quindi tutta una serie di delitti che le donne non compiono a differenza degli uomini ma non discute neanche l'aspetto della vergogna del pudore questo freno morale che le donne avrebbero proprio perché è un come dire un assioma è dato come un assioma indiscutibile che le donne abbiano una carica di vergogna e di pudore che le tengono lontane dal commettere certi delitti e qui appunto mi rifaccio a quanto ha detto prima Simona Feci al condizionamento che le donne hanno subito nel corso del tempo proprio per esortarle a una condotta più mansueta a una condotta di accettazione rispetto ai sobrusi alla violenza o qualunque altro tipo di reazione cioè nella cultura di Chetelet e comunque degli scienziati sociali di questi anni questo dato non è necessario discuterlo lo ritroviamo molto presente nella letteratura medica del tempo si dice appunto che il pudore è un elemento caratteristico del carattere femminile e cosa che è molto meno presente nel maschile e quindi insomma che Chetelet riconosce una superiorità morale nelle donne effettiva al di là dei due altri fattori la minore forza fisica e la vita più ritirata c'è quindi chiaramente in queste considerazioni l'idea di una natura femminile più migliore insomma di quella maschile che si riflette in questi dati non c'è invece il paradigma vittimario cioè non ci si rende conto questi statistici che come Keteleghe riiniziano appunto a affrontare questo tema non si rendono conto che questa superiorità maschile nei delitti è spesso una superiorità di delitti contro le donne non entrano in questi dettagli cioè non si rendono conto che molti degli omicidi commessi dagli uomini sono sulle donne o dei loro atti di violenza ci arriva più vicino Guerri che nella sua analisi valuta anche i moventi e si rende conto che molto spesso tra i moventi degli omicidi ci sono i dissidi domestici poi però non va oltre perché entra in una sorta di cortocircuito in cui si fa catturare da un altro stereotipo l'idea della donna istigatrice della donna che rimane nell'ombra e ha dei complici che commettono i delitti per al suo posto perché la criminologia inizia a rendersi conto dello spessore della violenza di genere della violenza contro le donne occorre attendere altri 40 anni quando effettivamente ai tempi di Lombroso criminologi non noti insomma per il loro orientamento liberale come potrebbe essere Garofalo parlano effettivamente di mariti omicidi cioè si rendono conto che c'è appunto uno spessore della violenza nei confronti delle donne che è estremamente significativo all'interno di quella violenza maschile che è riconosciuta già da tempo poi il dibattito assume però tornando ai tempi di Chetelea questa scoperta assume dei dei tratti diversi rispetto a quello che ho detto fino adesso nel senso che inizia a rendersi conto via via che altri stati pubblicano queste statistiche sull'attività dei tribunali che quel dato che loro ritenevano costante di una minore pericolosità delle donne rispetto ai delitti non è così solido se ne accorgono per primi gli inglesi perché le statistiche inglesi iniziano a dar conto delle differenze tra le nazioni che compongono il Regno Unito e immediatamente balza all'attenzione degli statistici statistici inglesi la forte differenza tra il comportamento delle donne in Scozia e quelle in Irlanda le donne scozzesi sono molto più presenti nei tribunali come imputate rispetto a quelle irlandesi e quindi ci si rende conto che quell'elemento che sembrava costante la differenza di genere di fronte al delitto era invece legato alle diverse società in cui le donne erano inserite cioè molto meno presenti in Irlanda rispetto alla Scozia il che nell'Inghilterra della fine degli anni venti dei primi anni trenta rimandava anche a un diverso sviluppo industriale di queste zone c'è una appunto sì lei intende fare questa cosa così non so se deve cercare di recuperare il microfono non la sentiamo più no 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 perché credo che Roberta abbia silenziato tutti i microfoni compreso quello del del relatore ok perfetto non volevo farlo scusate sono un po' troppo autoritario automatico ecco anche in Francia la stessa ci si accorge della stessa cosa cioè ci si accorge che c'è una profonda differenza a livello dipartimentale tra i dipartimenti del nord in cui la presenza femminile nei tribunali è più assidua rispetto a quelli del sud dove è molto meno significativa il che rimanda poi a un'altra questione che aveva già appassionato gli statistici del tempo cioè la differenza tra una Francia oscura la Francia dove è meno diffusa l'istruzione e una Francia che loro chiamano illuminata la Francia più più istruita la Francia del nord quella in cui la criminalità femminile è più significativa e quella anche quella più istruita e quella più industrializzata insomma c'è quella differenza tra le irlandesi e le scozzesi in ambito francese si riflette in una differenza tra una Francia del nord in cui la criminalità femminile è maggiore e una Francia del sud meno istruita meno industrializzata più povera in cui la criminalità femminile è decisamente inferiore sempre rispetto al dato del tribunale si va da un 21 donne su 100 imputati in Normandia a 2,5 donne su 100 imputati in Corsica quindi un dislivello molto molto forte al che gli statistici si dividono sull'interpretazione di questo dato nel senso che potremmo dire che quelli di orientamento più conservatore leggono questi dati questa scoperta di questa differenza tra le varie zone come un indicatore diretto della moralità la Francia del sud è più povera è più ignorante ma è più morale perché perché ci sono meno reati in generale e perché all'interno di questa situazione le donne commettono molti meno delitti rispetto alle donne del nord della Francia invece osservatori diciamo di orientamento progressista colgono un altro aspetto quello che è anch'esso un dato ormai assodato che più una società è sviluppata e più le occasioni di delinquere aumentano e quindi leggono invece la presenza assidua di donne all'interno di tribunali come un fattore di civiltà di progresso cioè il delitto femminile è un elemento di un progresso della società che sta avvenendo questo dibattito che si sviluppa negli anni negli anni 40 poi insomma io non ho trovato poi ulteriori ulteriori vicende perché un po' questa statistica morale vira sul confronto tra le nazioni cioè il dato sulla moralità a livello di appunto di funzionamento della giustizia spesso viene letto come una differenza di moralità tra le varie nazioni e poi arriviamo a Alombroso Alombroso che nel 1876 pubblica L'uomo delinquente che è un po' considerato l'inizio di una criminologia cosa che in realtà non è vera perché il crimine era già da 40 anni al centro di un dibattito tra virgolette scientifico ma in cui nell'uomo in questo trattato l'uomo delinquente nel 1876 c'è già un capitolo sulla differenza di genere e qui L'ombroso sembra essere diciamo dalla parte dei temi trattati oggi nel senso che immediatamente mette in discussione quei dati statistici di Chetelet su una scarsa pericolosità su una scarsa capacità criminale delle donne perché immediatamente dice attenzione i reati femminili sono tipicamente femminili sono quelli che si occultano meglio le donne sono spesso istigatrici e poi c'è l'altro tema che la prostituzione non è studiata non è punita mentre invece dal punto di vista della moralità e della criminologia la prostituzione è l'equivalente del delitto quindi assommando i dati sulle prostitute ai dati sulla criminalità femminile dice Lombroso i conti tra i due sessi si pareggiano o addirittura le donne sarebbero in vantaggio quello che era un capitolo all'interno dell'uomo delinquente del 1876 tende a assumere sempre maggiore dimensioni negli anni nelle edizioni successive fino a diventare il trattato del 1893 sulla donna delinquente la prostituta e la donna normale scritto insieme a Guglielmo Ferrero non ho il tempo per entrare troppo in dettaglio su questo su questo trattato perché è tra l'altro già stato studiato abbondantemente da Mary Gibson e altre storiche quello su cui vorrei però fermare l'attenzione per concludere è la diversa ricezione nel senso che il trattato viene tradotto in tutte le lingue ha un successo straordinario vende più copie in un anno di tutte le edizioni dell'uomo delinquente ma ha una ricezione molto diversificata a seconda dei contesti nel senso che in Italia indubbiamente rimane come il trattato di riferimento sulla criminalità di genere rimane molto lungo e viene ripubblicato più volte mentre in altri paesi dove come per esempio la Francia la Germania l'Inghilterra gli Stati Uniti viene sì ripubblicato ma incontra fortissime resistenze per due ragioni perché c'è un movimento femminista più forte rispetto all'Italia ma anche perché le donne hanno avuto accesso agli studi scientifici e sono in grado di controbattere alle pesanti affermazioni misogene di Lombroso e Ferrero anche su un piano di parità cioè quello che emerge nel dibattito italiano è una sorta di timidezza legata proprio alla difficoltà di scendere nel campo nel lagone diciamo delle scienze mentre invece in questi paesi la situazione è diversa ormai e insomma le critiche sono estremamente forti ci sono raccolte di firme contro i giornali che ospitano articoli di Lombroso lettere vengono inviate a Lombroso contro queste queste sue affermazioni tant'è che nell'edizione francese del 1896 Lombroso muta la prefazione per in sostanza cercare in qualche maniera di non di chiedere scusa ma di dire tutto ciò che viene detto non è stato detto contro le donne o per fermare il movimento di emancipazione femminile ma appunto è solo un tentativo grazie e grazie grazie a te Silvano ero ero preso a prendere appunti e diciamo non sono stata pronta a intervenire grazie mille delle appunto di tutto quello che valeva la pena di essere di essere annotato e che ci hai ci hai esposto Ignazio Grattagliano è il prossimo nostro collega e relatore Ignazio è un collega di Bari dove insegna criminologia clinica e psicopatologia forense ma è anche il coordinatore del di un centro interdepartimentale che dà anche il patrocinio al nostro seminario il centro di psicologia applicata per interventi in ambito medico economico giuridico ambientale ed è anche componente del direttivo di un altro ente un'altra istituzione che sostiene il nostro seminario c'è la società italiana di criminologia la sua esperienza è da un lato scientifica ma dall'altro anche come dire pratica come psicologo e criminologo in particolare nei processi di riabilitazione penitenziaria e anche in particolare proprio sui casi di criminalità femminile il titolo dell'intervento è continuiamo appunto a delinquere la donna delinquente note in tema di criminalità al femminile prego grazie grazie io ringrazio moltissimo la collega Anna Stella Carrino per avermi invitato a questo seminario ritengo che sia veramente estremamente suggestivo ed interessante e mi piace molto l'idea del cantiere e credo che il ringraziamento va su due livelli uno appunto per il contenuto perché è un tema come diceva Anichi Vendola nell'introduzione veramente estremamente suggestivo e interessante l'altro è sul metodo mettere insieme lo vedrete nella mia conversazione con voi mettere insieme non solo gli storici ma specialisti di diverse discipline è una cosa di cui abbiamo credo un disperato bisogno direi parlando di questi temi per cui il dato che ci sia anche una collega sociologa una collega giurista ci siano gli storici ho sentito delle cose soprattutto negli ultimi due interventi che sono anche molto vicine ai miei interessi e dico anche subito a livello introduttivo anche quali sono i limiti del mio intervento un po' come diceva la collega Carino io non solo insegno psicoatologia forense e clinologia clinica ma sono approdato all'accademia molto tardi a 50 anni e per molti anni ho lavorato come psicologo in ambito penitenziario e mi sono occupato di quella grande scommessa che c'è dietro che ci crediamo o no nella io ci credo molto anche se o anche devo registrare ecco centri sconfitte nel senso che il carcere e la pena hanno anche una funzione rieducativa e riabilitativa mi sono occupato di questo sia in reparti femminili che maschili e sono anche un valutatore cioè un professionista che per conto delle forze dell'ordine della magistratura fa l'attività peritale siamo obbligati a farla nel settore il med 43 a cui appartengo quando avvengono casi di reati molto importanti per cui da questa prospettiva che io che si allontana molto anche se ha notevoli sintonia con le cose che ho sentito che vi parlerò organizzerò la mia conversazione sono anche i limiti di cui mi scuserete nel mio intervento allora parto da questa considerazione che appunto in criminologia nelle nostre discipline quando si parla di criminalità e violenza delle donne sembra qualcosa che sia lontano dalla luce della ribalta come se non è qualcosa di ancora non ben illuminato ecco mi piace usare questa metafora che si aggancia a quella del microscopio che usava Nichi Vendola cioè che ognuno sta su un microscopio e manca come specialista e manca uno sguardo di insieme appunto una connessione anche se il mito e la storia ci restituiscono una serie di figure mitiche dove invece le donne devo dire se la cavano molto bene se mi consentite la battuta insomma nell'agito criminale ce ne sono tante insomma senza che adesso le sto a ripercorrere tutte per non annoiarvi insomma in sintesi il punto centrale anche attualmente nelle ricerche sulla criminalità femminile è che le donne in ogni caso lo dimostrerò adesso con dei dati delinquono meno degli uomini compiono dei reati apparentemente apparentemente meno gravi ed in modo differente gli ambiti elettivi sembrano la dimensione di prossimità l'omicidio in famiglia i rapporti affettivi e aspetti di questo genere e infatti i dati attuali ce lo sostengono questo pensate che sul totale dei denunciati attualmente dati ultimi del ministero della giustizia o del ministero dell'interno le donne si attestano al 13-17% soltanto dei denunciati in carcere attualmente sulla popolazione di 60.000 circa detenuti solo il 6-7% quindi se dovessimo andare su un dato soltanto quantitativo sono donne e le ricerche portano a dire che il 20% soltanto sono donne terroriste 2 su 43 donne serial killer se è un paradosso ci fossero solo reati femminili noi avremmo l'80% di reati in meno con tutto il limite che questo comporta come dati devo anche dire che su questo consentite una piccola digressione per noi della medicina legale ragionare sui dati è molto importante però su questo io devo segnalare una confusione anche ai colleghi storici lo dico veramente con molta simpatia con molta umiltà e anche i colleghi sociologici che spesso si ragiona sui dati di segnalazione di reati per noi in medicina legale un reato c'è quando c'è una condanna c'è una vittima e c'è un autore ed è certificato dall'amministrazione penitenziaria dalla giustizia questo nulla toglie alla serietà dei reati segnalati però siccome tra breve parlerò del crimine anche su come viene comunicato percepito e rappresentato occupandovi anche di sicurezza e di controllo sociale e quindi dobbiamo stare molto attenti quando noi comunichiamo certe cose ad esempio alcune ricerche che vengono spesso citate penso quella dell'Istat famosissima ultracitata che teoricamente vede quasi 6 milioni di donne molestate in Italia attenzione che la metodologia è fatta sulle segnalazioni a volte è fatta su interviste telefoniche una metodologia su cui bisogna riflettere con estrema attenzione quello che sto dicendo non diminuisce di un grammo la gravità e la serietà della violenza sulla donna o delle violenze commesse dalla donna lungi da me voler disconoscere questo fenomeno sto solo riflettendo insieme a voi da ricercatore su come noi dobbiamo usare i dati in questo in questo contesto perché altrimenti rischiamo di fare anche delle pericolose confusioni e di creare anche dei problemi anche nell'opinione pubblica su questo c'è molto da riflettere allora un po' è stato molto ben detto e quindi non voglio ripetere la professora Montaldo la collega Montaldo pria di me per cui c'è questo questo etichettamento negativo questo stereotipo sulla donna delinquente nell'ottocento la criminalità femminile un essere crudele sessualmente forte c'è lo stereotipo è lo specchio ributtante almeno nei nostri manuali di criminologia quando si parla di storia della criminologia dell'immagine invece di una donna molto più adattata molto più socializzata più tradizionale quindi sicuramente sulla criminalità femminile pesa tantissimo l'aspetto dello stereotipo della cultura del contesto della storia e il testo famoso di Lombroso è anche quello che Lombroso teorizza ma direi anche con una grande modernità si è parlato certamente non era nelle parole del collega Montaldo però se ne parla a volte tanto male io vorrei dire che Lombroso c'è un grandissimo merito che tuttora ha una grande dimensione di modernità cioè su cui è fondato anche il nostro sistema penale senza che adesso io entro in competenze che non sono mie cioè sostanzialmente il dire non guardiamo soltanto alla trasgressione del reato ma guardiamo come sta quella persona in quel momento come sta psicologicamente come sta umanamente come sta antropologicamente e questo io credo che sia molto garantista rispetto ad altri sistemi parlo dell'attualità giudiziari io penso quello anglosassone dove il primo livello è no noi tuteliamo la collettività adesso sto semplificando qualcosa che il professore di filosofia del diritto potrebbe spiegare molto meglio di me o di diritto penale ma così lo sintetizzo moltissimo anche perché abbiamo poco tempo a disposizione tuteliamo la collettività tu hai trasgredito la norma noi diciamo no vediamo come sta la persona certamente questo può essere utilizzato come etichettamento in negativo io penso senza andare all'ombroso al dibattito attuale sulle neuroscienze a quello che per la psicologia e la psichiatria a mio modesto avviso è il rischio di un grande riduzionismo cioè quello di ridursi soltanto alla psicopatologia all'aspetto diagnostico e non non lo dico perché mi ospitano degli storici invece per noi in medicina legale la storia di quella persona la sua storicità la sua complessità la storia del reato come lo ha commesso la scelta dell'oggetto per commettere un reato una cosa è uccidere una persona con una coltellata una cosa è farlo con cento coltellate una cosa è con l'acido una cosa è col ferro da stiro sono le cose che con grande concretezza noi vediamo il comportamento il funzionamento la storia di quella persona ci racconta anche la genesi del reato e anche la valutazione sul reato sulla capacità di intendere di volere che è attualmente diciamo uno dei degli aspetti più importanti che noi abbiamo nel nostro codice quindi in questo ecco c'è una modernità anche di Lombroso che io vorrei recuperare e queste cose che ci sembrano molto lontane io credo che abbiano anche oggi una loro attualità in cui il rischio di riduzionismo penso alla genetica penso alle neuroscienze che sicuramente portano un grandissimo contributo però siccome siamo a confine fra il diritto e la scienza sia ai giuristi sia a molti dei miei colleghi fa comodo trovare un'unica soluzione per problemi che in realtà sono molto complessi e che hanno a che fare invece con la storicità dell'essere umano e quindi su questo io credo che c'è qualcosa da recuperare anche di Lombroso della sua insegnamento della sua attualità scorporandolo ecco dagli aspetti più etichettanti più stigmatizzanti più negativi e anche dall'uso che è stato fatto anche del suo testo dei suoi scritti il problema è appunto storico è quello di contestualizzare il perché ci sono dei pregiudizi quindi c'è una sorta di etichettamento di collocamento della criminalità femminile che deve confrontarsi con degli stereotipi delle idealizzazioni di tipo femminile all'interno di questa impostazione emergono alcune cose che ho già sentito una maggior tolleranza nei confronti dei reati femminili l'atteggiamento a volte di cavalierato di giudici di poliziotti nei confronti del gentil sesso il ruolo che viene etichettato come subdolo della donna soltanto come fiancheggiatrice come stigatrice come persona che sollecita l'aggressività maschile e tutto questo andrebbe rivisto con estrema attenzione altre teorie che adesso oggi possono farci sorridere Altavilla che pensa che il pensiero della donna si trasforma perché è assai minore l'attrito oppure il discorso sulla prostituzione o l'immobilità dell'ovulo rispetto allo spermatozoo cose che adesso ci fanno sorridere che è un secolo fa però devo dirvi devo dirvi se andiamo nell'attualità anche attualmente io che devo frequentare i tribunali ancora oggi con i limiti di un'esperienza soggettiva su cui però io ho fatto qualche ricerca ho anche scritto mi accade di trovare e questo apre una grande contraddizione avvocati e avvocatesse giudici e giudicesse colleghe donne e colleghi uomini che mi ridono in faccia quando per esempio noi sosteniamo che ci può essere la violenza carnale fra moglie e marito o devo ricordare a me stesso e a voi che nel 1881 è stato abolito il reato delitto d'onore quindi queste cose che a noi sembrano torniamo alla storia sembrano cose assurde ridicole hanno una loro continuità ancora nei nostri pregiudizi nelle etichette nelle culture su cui noi dobbiamo lavorare molto e su cui credo che sarà la conclusione della mia conversazione come università abbiamo molte cose da cambiare se siamo quelli che formano i professionisti cioè quelli penso facoltà come giurisprudenza o medicina dove io ho lavorato tanti anni o attualmente psicologia cioè i futuri psicologi i futuri medici i futuri giudici i futuri avvocati i futuri poliziotti vengono di là vengono da la formamenti se li stiamo dando noi e torno ancora alla gratitudine verso Anastella Carino il dato che per esempio non dialoghiamo molto fra discipline il dato che per esempio a giurisprudenza non c'è un insegnamento di psicologia generale eppure avvocati giudici sono a volte i primi ad ascoltare delle vittime degli autori di reati a psicologia manca un esame di diritto medicina e psicologia non dialogano manca un circuito in cui assistenza formazione ricerca è messa insieme sostanzialmente che porterebbe anche a prevenire e a leggere i segnali anche di aggressività di violenza prima che questa esploda in maniera in maniera molto forte credo che su queste cose anche per non distanziare quello di cui stiamo discutendo dovremmo travasarlo ecco un analogico del cantiere che Anastella ci ha proposto anche nelle cose di casa nostra per ragionare in maniera diversa per costruire dei percorsi diversi culturali fino ad arrivare a cose ecco più più attuali gli studi di Tamar Piccio dell'Ambroset che ripropongono questo tema dell'etichettamento in negativo penso agli studi della Adler abbastanza datati che segnalano con il maggior ingresso e maggior processi di socializzazione e emancipazione femminile hanno immediatamente un aumento dei reati o della considerazione dei reati commessi commessi dalle donne o ai dati le ricerche che dimostrano che durante le guerre aumentano i reati femminili perché gli uomini sono a fronte sono a combattere sono impegnati nel combattimento nella guerra o gli studi di Pollack ormai molto datati che anche qui c'è qualcosa su cui riflettere con attenzione ma anche da decostruire e stando molto attenti anche qui a logiche di riduzionismo cioè che il circuito della violenza cioè che in realtà le donne commettono reati è perché loro hanno subito violenza da in età minorile o in età giovanile dato che sicuramente è acclarato da molta letteratura scientifica ma che va preso anche con estrema cautela e va anche declinato sui singoli soggetti e come anche povertà indifferenza processi di socializzazione hanno a che fare molto con questo aspetto insomma voglio arrivare a questo che è un grafico per dire come per tornare sul tema della comunicazione sul tema della rappresentazione sul tema della sicurezza perché ad esempio se noi guardiamo questo grafico allontanandoci un attimo dal tema vediamo come l'Italia dovrebbe essere uno dei paesi più sicuri al mondo guardate il tasso di omicidi come è basso rispetto ad altri paesi eppure la rappresentazione che a cominciare anche noi la nostra categoria penso ai psicologi psichiatri per non parlare dei media per non parlare delle alcuni quotidiani il danno del nostro paese è completamente diverso e credo che una delle lezioni della pandemia sia stata proprio questa come comunicare lo stress il disagio la sofferenza la malattia i reati perché questo crea incide tantissimo anche sugli aspetti di controllo di sicurezza di percezione e di rappresentazione del crimine non a caso io lavoro molto in maniera interdisciplinare con i colleghi di comunicazione ho molto piacere il fatto che sia presente anche come ascoltatrice la collega Rosita Maglie che fa parte di questo settore del mio dipartimento con cui da anni lavoriamo insieme proprio perché gli aspetti anche comunicativi sono molto importanti e siccome parliamo di comunicazione qui non c'è niente Lombroso però io mi diverto tra virgolette anche perché c'è letteratura scientifica sul dato e su come qui stiamo parlando anche di reati commessi da donne adulte invece sono dei dati molto interessanti sui reati sulla devianza minorile sui reati della criminalità minorile femminile che è in netto aumento su come l'esposizione immagini senza alcun moralismo da parte mia per carità insomma non mi appartiene assolutamente è devietato anche dal mio corso deontologico però io penso che come classe intellettuale su queste immagini noi non possiamo non riflettere non possiamo non discutere perché questo crea cultura crea rappresentazioni mentali pensate a immagini come queste con i messaggi che hanno non è non è ambito mio non a caso mi appoggio ai colleghi di comunicazione sono un clinico un clinico prestato alla medicina legale agli aspetti forensi però non mi sfugge questo nell'esame delle singole persone dei reati più terribili spesso se si sta attento alla storicità del reato in attività peritale e non soltanto l'aspetto diagnostico clinico ci sono le culture legate a due elementi che in criminologia sono estremamente importanti e che sono richiamati in queste immagini che sono il sesso e il danaro che sono attività attivatori anche nei reati commessi dalle donne di reati a volte anche atroci però questa produzione pubblicitaria io credo che ci debba porre delle domande estremamente importanti e interessanti perché segnala un mondo che c'è dietro e su cui bisogna riflettere ecco con cultura e con grande con grande attenzione non a caso la società italiana di criminologia che molto volentieri ha dato l'adessione a questo bellissimo seminario ha un suo settore di cui io non mi occupo però che mi va di citare anche perché c'è un un convegno importante esisterà a Genova fra non molto proprio di criminologia narrativa cioè di chi è attento alle narrazioni sul crimine alle rappresentazioni sul crimine agli aspetti simbolici emozionali che non devono non solo quelli clinici non solo quelli che sono legati alla psicopatologia non solo quelli legati alla criminologia clinica noi abbiamo bisogno di questa interdisciplinarietà se vogliamo capire su qualcosa dei crimini commessi dalle donne e dei crimini in genere avvicinandomi invece a qualcosa che io mi è molto più più agevole che non un discorso sull'immagine sulla comunicazione che cedo volentieri in interdisciplinarietà ai miei colleghi che si occupano di comunicazione con cui lavoro ecco in maniera molto feconda insieme questi sono i dati su totale denunciate alla polizia di Stato nel 2020 con le differenze fra uomini e donne vedete omicidi volontari cinquantatré novecento omicidi volontari consumati percorse e lesioni dolorose a tremila e sei stalking mille cinquecento settantadue violenze sessuali quattrocento sono numeri importanti e notevoli e questa è la differenza invece con quelli commessi dalle donne dove vedete che i reati di stalking che è un reato di cui parlerò tra breve e pon una grande domanda alla criminologia è in netto aumento qui i numeri sono veramente notevoli l'omicidio in famiglia l'autore è probabilmente maschio e giovane adulto occupazione manuale abbiamo soltanto il sette per cento di donne sul novantatré per cento di uomini e così anche per quanto riguarda di serie killer i dati sono abbastanza limitati invece io ho dovuto tagliarlo perché ho solo quindici minuti a disposizione avevo preso per voi ma poi posso credo che dovremmo fare un paper su queste nostre conversazioni mi sembrano molto interessanti avevo preso dati dalla Francia dalla Spagna dalla Germania molti paesi europei dove in realtà nella criminalità femminile e minorile le percentuali e questo è un dato estremamente interessante sono in grande aumento adesso non leggo tutta la depositiva per non tediarvi anche perché ho già preso gran parte del mio tempo voglio avviarmi al reato di cui vorrei parlarvi e poi alle conclusioni però questo dato vorrei darlo che c'è questo grande elemento di novità che nella criminalità minorile e femminile quindi significa spesso anche nella criminalità futura adulta abbiamo percentuali nell'uso delle sostanze nei reati legati all'uso di sostanze di alcol e sostanze sulle facenti che spesso sono in criminologia sono degli attivatori della violenza dei reati tutta la letteratura è concorda che dove c'è uso di sostanze o abuso di alcol i reati aumentano notevolmente per arrivare a questo che presento con questo piccolissimo filmato perché è stato secondo me è un cult questo film e rappresenta un reato molto interessante e sui percentuali sono in netto aumenti non si può affrontarmi un momento tu sei solo stasera sono solo anche io dov'è tu? guarda e tu sei con una sconosciuta e chissà che stai fantasticando mi pare che non c'è niente di male andare a cena con qualcuno ci vediamo domani non hai ancora capito che è finita che non c'è niente tra noi due hai dimenticato le nostre notte telefona continuamente a casa mia e ogni volta che lei ti risponde a tutte le famiglie ragazze non fai perdere la mia famiglia tu comportati bene con me ho avuto una storia con lei e io mi comporterò bella non mi devono pensare di potertela capare facendo me e invece era un buono se però viene da vicinarti devo andare a me e giuro che è più tu non puoi pensare di buttarmi due così dov'è? sei andata via chiami la polizia qualunque sia la vicina della sua rabbia probabilmente la sarà già passata se invece non fosse come diceva e tu pensavi di poter entrare in bugio in Italia beh ti sei sbagliato ok possiamo sicuramente chiudere con queste immagini anche perché la concretezza dell'immagine penso un po' questo è anche lo sguardo nostro clinico l'idea di e anche dovrebbe essere formativo di impattare poi non soltanto di studiarla ma anche di poter come diciamo noi in medicina legale in criminologia sapere individuare in tempi brevi sapere riconsiderare valutare poi anche descrivere quali sono i segni anche i premonitori dell'aggressività della violenza guardate che qui i dati invece salgono tantissimo questa è una domanda importante cioè perché le le autrici di stalking di donne su donne donne su uomini hanno percentuali che si distaccano nettamente dall'altro tipo di reati dicevo donne su donne perché questo apre un'altra piccolissima digressione che però lascio al dibattito cioè anche devo dirlo con anche un pizzico di tristezza e anche di angoscia mi capita spesso nei tribunali ho già detto qualcosa all'inizio di vedere la violenza verbale di colleghe psicologhe colleghe psichiatri di avvocatesse quando devono controinterrogare anche altre donne vittime per esempio lo stesso a volte è capitato in un paio di occasioni vi confesso di essere stato vittima di aggressione fisica da parte di donne durante un'udienza questa è una domanda importante come le donne diventano violente nei confronti di altre donne che denunciano violenza sessuale violenza all'interno di un processo violenza verbale interrogatori terribili avvocatesse arrabbiatissime lì salta tutto un paradigma ecco di accoglienza di solidarietà di empatia credo che questo ponga delle domande non banali e richieda delle risposte non banali è perché c'è il contenzioso giudiziario è perché ci spogliamo da certi ruoli ma credo che su questo ci sono molte domande su cui porre la criminologia mi avvio la conclusione prevede vari tipi di stalker queste sono descrizioni di tipo criminologico non hanno nessuna valenza clinica soggetti rifiutati dove il tema della relazione dell'aspetto simbolico emozionale della cultura della storia della narrazione della singola persona torna prepotentemente no chi si è sentito rifiutato quello in cerca di intimità il corteggiatore inadeguato quello che è rancoroso i predatori sessuali che sono i più pericolosi l'atteggiamento sospettoso e paranoide l'atteggiamento anche qui c'è un aspetto interessante interdisciplinare alcuni giovani miei colleghi la dottoressa Violante la dottoressa Franco stanno studiando molto stiamo studiando molto con i colleghi di vita evolutiva un paradigma interpretativo di questo tipo di reato che è legato alla teoria dei legami di attaccamento cioè statisticamente stando attenti a evitare per le cose che dicevo prima metodologiche qualunque automatismo di abbinamento e qualunque determinismo ecco all'alombroso ma modernizzato all'oggi però c'è letteratura che legami di attaccamento torniamo ecco a una lettura storica del singolo soggetto a cosa gli è successo nell'infanzia a che legami ha avuto con i genitori a che processi di socializzazione di cultura ed educazione che rappresentazione dei maschili e femminili gli sono state date legami di attaccamento danneggiati o complessi o complicati o complessuali sono predisponenti sono fattori di rischio alla commissione di questo tipo di reato di reati sessuali in genere per cui lo stalking sembra correlato a questo anche se legato anche a problemi di disturbi di problematiche di salute mentale anche se su questo c'è da fare la tara essere molto attenti ecco torniamo a Blombroso evitare determinismi di tipo medico tipo biologico io devo ricordare a me stesso e a chi ci sta ascoltando che attualmente il nostro diritto prevede la valutazione della capacità che intendo di volere cioè io posso avere anche un disturbo mentale posso avere anche un problema questo è noi diciamo in medicina legale noi spieghiamo un reato non lo stiamo giustificando il rischio di patologizzare scusate il pessimo neologismo e dire che tutte queste cose sono segni di malattia e automaticamente siccome c'è la malattia il soggetto ne è portato in clinica psichiatrica restituendo alla faccia di basaglia alla psichiatria una funzione di controllo sociale non in carcere non in un circuito giudiziario che chiaramente dovrebbe essere riammodernato lo dico da vecchi operatori penitenziari dovrebbe rispondere anche a questo a questi a questi reati a questi a la novità che portano anche questi reati è altissimo elevatissimo per cui è lecito evocare il disturbo mentale come qualcosa che è un fattore di rischio un fattore predisponente di questo tipo di reati e anche per l'aumento perché ripeto le statistiche ci dicono che rispetto all'altro tipo lo stalker femminile lo stalker femminile è in netto aumento ma non è l'unica aspirazione bisogna stare molto molto attenti su questo ecco c'è molta letteratura però il tempo a mia disposizione è praticamente esaurito per cui mi avvio rapidamente alla alla conclusione ricordando la norma che è molto precisa che dà l'idea di quando le discipline si contaminano quando il diritto la psicologia la psichiatria narrano e costruiscono insieme vengono fuori delle cose del reato del 2014 ed è molto attento spesso se ne parla anche in maniera impropria perché c'è la necessità della reiterazione e deve anche perdurare cagionare nella vittima uno stato di ansia la modifica di alcune abitudini comportamentali segnala anche la necessità da parte della vittima di interrompere ogni forma di comunicazione con lo stalker di opporsi in maniera precisa mentre spesso qui ci sono aspetti anche di collusione di complicità di legami anche molto disturbati problematici tra gli autori e le vittime e io chiudo con questa domanda un po' con questa scena che è terribile che è una delle fenomenologie dello stalker dello stalking quando il reato la famosa scena del coniglietto dei figli di Michael Darlas che la stalker bravissima l'attrice lascia lo uccide lascia bollire nella pentola e questo avviene io che mi occupo di questo reato avviene spesso cioè che c'è l'attacco al cane l'attacco all'auto l'attacco alle relazioni di prossimità anche agli oggetti per poi arrivare come dire l'attacco alla persona alla persona designata la domanda che al di là della criminalità femmina dobbiamo porci anche come classe accademica come classe intellettuale e perché la sessualità e l'affettività che sono cose così vitali e così importanti e anche così belle della nostra vita Freud diceva parafrasando un vecchio detto men sano in sexu sano diventano reati diventano crimini io credo che qui riavvolgo tutto il nastro della mia conversazione gli aspetti ancora una volta storici simbolici emozionali culturali vanno riattraversati in profondità con grande attenzione e la criminologia mostra anche tutti i suoi limiti se è come la medicina e la psicologia non si appoggia ad altre scienze per tentare di comprendere perché appunto una parte così vitali ciascun di noi poi diventa un crimine diventa un reato e genera veramente molta sofferenza e l'ultima suggestione è su di noi cioè su come pensare di ridefinire i nostri corsi accademici veramente in maniera interdisciplinare perché questo non c'è attualmente e quindi stiamo sfornando decine centinaia di professionisti che però tornando alla metafora di Chivendola stanno chini sul microscopio non hanno più uno sguardo d'insieme questo lo ritengo molto molto pericoloso quindi abbiamo necessità a partire dalle suggestioni di questo bellissimo seminario veramente concluso anche di portare questo tipo di argomentazione di riflessione anche nella concretezza dell'organizzazione didattica di ricerca di studio dei nostri corsi accademici ringrazio per l'attenzione e grazie Ignazio e appunto hai ci hai convinto sempre di più che che occorre dialogare per per rendersi conto davvero della della portata dei dei problemi anche di quelli che ognuno di noi appunto si guarda al microscopio non solo per una cosa che io condivido perfettamente nel nostro ruolo di docenti ma anche proprio di di studiosi coloro che fanno ricerca e che che si che interroquiscono a vari a vari livelli della della vita nella società civile oltre che nel proprio ambito che se se guardo così diventa sfittico è ristretto dunque grazie mille per continuare convincerci che occorre contaminare i saperi per per capirne impararne di più io introduco con grande piacere Stefania Ferraro che è una sociologa dei fenomeni politici della Sororsola Benincasa e che fra i suoi interessi di ricerca anche proprio quella della decostruzione di paradigmi discorsivi sulla violenza al femminile e suo del duemiladiciassette fra l'altro il libro la semi imbecille altre storie biografie di follia e di miserie il titolo del suo intervento stasera è la vita delle donne infami la resa patologica del male fra contraddizioni sistemiche e soluzioni biografiche prego Stefania grazie grazie davvero di cuore per mi aggiungo e ringraziamenti rispetto al convegno rispetto alla intensità e alla veramente elevatissima presenza di contenuti importanti di stimoli che io stessa ho appuntato ovunque rispetto agli interventi che mi hanno preceduto e grazie anche perché questo lo dico proprio da sociologa perché credo che il tema sia ancora più di attualità se si può dire perché come proverò in qualche modo a condividere con voi nei momenti di grande crisi come quella che sicuramente noi stiamo vivendo una crisi diciamo sociale ed economica in questo caso legata alla pandemia alcuni meccanismi di inferiorizzazione e anche di inferiorizzazione delle donne possono ovviamente reiterarsi moltiplicarsi ma anche avere delle conseguenze importanti su un piano di quelle che sono poi le declinazioni delle politiche di intervento governativo rispetto alla crisi da affrontare mi viene per esempio in mente che da una lettura condivisa anche con l'amica e collega Anna Simone una diciamo tra le maggiori studiose sicuramente delle dimensioni di criticità della cura come concetto legato al femminile abbiamo individuato rispetto alle declinazioni presenti nel così detto e denominato piano nazionale di resistenza e resistenza rispetto alla questione femminile no? questione che intanto viene continua ad essere posta come la questione e non una questione che in termini come dire di lavoro reale di integrazione reale delle donne debba deve dialogare necessariamente con mille altri aspetti del complesso sistema sociale e del complesso sistema lavorativo del nostro paese e dell'Europa in genere ma che peraltro definisce come dire continua a definire le politiche di intervento in termini di micro incentivi specifici ed individuali che dunque non pongono poi sotto una diciamo lente più critica tutta quanta l'articolazione sistemica complessiva peraltro ritorna anche lì legato al tema delle politiche femminili la questione come dire relativa all'incentivazione per esempio delle natalità ma questo soltanto diciamo per dire che trovo veramente importante il confronto con interdisciplinare vero reale come stasera e mi unisco profondamente a quanto diceva prima il relatore che ha appena concluso il suo intervento rispetto alla necessità di una riflessione vera autentica e profonda all'interno delle organizzazioni dei nostri sistemi universitari formativi dei nostri corsi di laurea perché noi stiamo correndo un rischio molto forte che è quello di come dire vestire cioè come fare indossare agli esperti che andiamo a formare nei vari saperi in realtà dei panni diversi che sono i panni dei tecnici piuttosto che degli esperti cioè di coloro i quali si nutrono di nozionismi ma che non hanno più la capacità di un ampio respiro rispetto alla declinazione dei vari problemi questo lo vivo fortemente rispetto a quelli che sono i percorsi formativi nei quali lavoro dai comunicatori agli psicologi ma anche per esempio a tutta quella che è la grande partita di figure professionali che noi formiamo rispetto al terzo settore in particolare settore peraltro che come dire vive molto forte la presenza delle donne per una serie di motivi che hanno a che fare con la strutturazione del sistema appunto di welfare state del nostro sistema di welfare state andando al tema specifico che propongo che vi propongo che vorrei condividere con voi intanto come dire preciso il mio metodo d'approccio a questo grande tema del male al femminile è un approccio di studio e di ricerca che fa riferimento come dire agli insegnamenti sui sullo studio dei sistemi di veredizione che sono fucoltiani e quindi quello che io ho fatto nel corso delle mie ricerche rispetto appunto a alle pratiche di narrazione di questa violenza femminile è stata quella di decostruire di individuare intanto quello che è l'esercizio di riscrittura che l'ordine discorsivo fa rispetto a questa violenza al femminile cercando di individuare quali sono anche gli stereotipi ricorrenti e quali sono i conseguenti processi poi di gestione di queste condizioni appunto di inferiorizzazione un aspetto centrale secondo me per poter inquadrare almeno da una prospettiva sociologica la questione della quale stiamo dibattendo è sicuramente andare a fare i conti secondo quella metodologia determinante che ci ha consegnato in eredità Robert Castel che è l'istuardo presa cioè la possibilità di costruire di analizzare la nostra storia del presente andando a ricomporre necessariamente i passaggi che storicamente si sono definiti per arrivare all'oggi è prendere in esame quello che è il la composizione dello stato sociale e dell'insieme di quelle che sono le politiche che nel corso degli anni si sono definite in termini di politiche sociali ma proprio partendo dalle radici perché in quelle radici cioè è nella composizione di quello che nella letteratura francese noi vediamo definito come età providence cioè l'età che lo stato che entra in una partita di compensazione a partire dall'ottocento della rivoluzione industriale rispetto a quelli che erano i disaggi sociali per arrivare poi nel tempo a quello che invece è diventato nelle politiche neoliberali un'età anima ter cioè uno stato che arretra rispetto alla alla suo intervento sul bisogno specifico perché delega come dire questo intervento a soggetti terzi che sono la grande partita del terzo settore ma anche perché nel tempo ha costruito dispositivi discorsivi rispetto a processi di responsabilità individuale colpa altrettanto individuale e però è dentro questi processi di trasformazione dello stato sociale che essi di nascita di sviluppo di trasformazione dello stato sociale che noi vediamo annidarsi la logica del patriarcato penso per esempio alla grande letteratura alla grande analisi su questi temi fatta da Don Zelot in un testo che resta sicuramente un riferimento che non a caso prende il termine del governo della famiglia nel quale Don Zelot ricostruisce tutte le pratiche attraverso le quali si è professionalizzato il sistema sociale cioè sono nate quelle figure professionali di intervento appunto a risposta di quelli che erano i disaggi sociali e che cosa c'entra questo col patriarcato c'entra perché lì c'era anche la radice di quello che era la dimensione sostanzialmente determinante del ruolo attribuito alla donna come soggetto di cura che non era più soltanto diciamo che non è soltanto il soggetto di cura all'interno di una dimensione familiare ma che è soggetto di cura anche rispetto a quella che era la costruzione la professionalizzazione del sistema sociale penso per esempio alla ai passaggi meravigliosi che Don Zelot descrive nel governo della famiglia rispetto alla nascita della figura dell'assistente sociale che viene immediatamente declinata per la sua specifica condizione di soggetto di presa in carico e cura secondo un elemento femminile e d'altro canto poi rispetto a questi a questi temi abbiamo anche come dire la possibilità di riferirci ad altre analisi come quelle che per esempio fa lo stesso Weber in una prospettiva proprio di discorso storico quando Weber immediatamente fa i conti con quelli che erano gli interventi di riscrittura del corpo corpo inteso come corpo sociale ma anche corpo singolo rispetto a una necessità diciamo negli interventi governativi di agire in termini di rivisitazione di quelli che erano i bisogni i desideri soggettivi da giustapporre rispetto a quelle che erano le esigenze della società capitalistica nascente e quindi la necessità come dire di investimento all'interno del corpo sociale tanto quanto rispetto al corpo del singolo di investire invece nella dimensione di produttività di talenti in un processo che Don Zelori chiamandosi proprio a queste teorie chiama di costruzione di una nuova ingegneria del sociale all'interno del quale noi ritroviamo all'interno della quale noi ritroviamo tutte queste dimensioni anche di di governo di quello che è il ruolo della donna rispetto al contesto sociale e da questa diciamo matrice forte noi andiamo a recuperare anche quello che poi sono le rappresentazioni le narrazioni gli stereotipi che continuano diciamo a riprodursi rispetto alla a quella che è la violenza che la donna può commettere che è sicuramente come appunto è stato più volte ribadito anche stasera una violenza non accettata e quindi riconvertita in altro ma è una violenza non accettata nella misura in cui è una violenza che necessita di dover essere governata in qualche modo anche repressa che deve essere depotenziata spesso di quella che è la matrice politica di questa stessa violenza che necessita di essere quindi complessivamente riscritta all'interno di un'esigenza più complessiva che è quella di preservare un ordine sociale precostituito che naturalmente muta nel tempo non è quello l'ordine sociale e non è il sistema sociale ottocentesco ma quello che resta attivo è il meccanismo la reiterazione diciamo di questo processo di riscrittura infinito non è un caso perché quindi secondo me è importante fare anche questo passaggio che tiene insieme sistema sociale e patriarcato non è un caso che per esempio prima il collega sottolineava l'attenzione che teleprestava non tanto alla dimensione fisica della donna nella commissione del reato quanto piuttosto alla sua lettura sociale al suo dato sociale perché chiaramente quella dimensione sociale era quella che consentiva in qualche modo di individuare i necessari principi di intervento affinché quel gesto per quanto criminale potesse essere comunque restituito e riscritto all'interno di un ordine che lo accettasse che lo rendesse che lo affinché fosse reso diciamo accettabile all'interno di un di un ordine precostituito non a caso per esempio e qui vengo anche al perché in qualche perché o come dire voluto utilizzare questo titolo e che rievoca naturalmente quello che Foucault aveva utilizzato per per il suo studio sulla storia degli uomini infami la vita degli uomini infami la vita delle donne infami perché questi processi perché a mio avviso e per la lettura che io ne faccio questi processi di riscrittura che continuano ad essere presenti riscrittura in termini di inferiorizzazione della violenza commessa dalle donne hanno comunque la connotazione appunto dell'infamia infamia intesa proprio Foucaultianamente come quella caratteristica della della soggettività che si macchia di uno di uno stigma che si macchia di un crimine ma che contemporaneamente è su un corpo che è reso muto cioè che non ha capacità di voce quindi infamia come assenza di voce l'assenza anche di poter raccontare il suo stesso crimine e che normalmente all'interno del dibattito pubblico continua a essere poi reiscritta e reinterpretata in termini comunque di moralizzazione perché la pratica di inferiorizzazione o comunque l'esercizio di una donna vittima che costantemente pervade il nostro dibattito pubblico è connotato continuo ad essere connotato da modalità appunto di di moralizzazione infami sono come dire le donne che nel corso delle mie ricerche ho incontrato e ho analizzato a partire per esempio da una prima ipotesi un primo caso di studio di questo di questo tipo che in maniera del tutto casuale come dire ha poi anche condotto mi ha condotto verso questo tipo di riflessione e questo tipo di studi che è stata l'analisi che appunto restituisco nel testo che prima Anna Stella citava che è l'analisi di una perizia una perizia del data alle stampe nel perizia psichiatrica data alle stampe nel 1893 ad opera di Giuseppe Piazzi e che portava il titolo di omicidio e tentato infanticidio in una semimbecilia affetta da mania puerpoerale studio medico appunto è un caso che mi ha come dire aperto un mondo non ancora risolto di riflessioni naturalmente la storia è la storia di una donna di una donna trentenne di una un paesino appunto rurale in provincia di Pesaro che uccide a manganellate il suocero e che viene poi prima arrestata poi condotta dal carcere al manicomio e la riscrittura di questa vicenda si inserisce appunto in un un processo di di perizia psichiatrica è come dire legata alla individualizzazione della sua patologia cioè la semimbecilità la vicenda naturalmente è la vicenda una vicenda un po' più articolata nel senso che la donna uccide l'uomo quell'uomo perché quell'uomo come appunto viene anche ricostruito all'interno della perizia stessa abusava di lei quindi è un atto di violenza che si traduce in omicidio e che tuttavia viene appunto sottoposto a una lettura che è la lettura della della patologia della donna la donna è semi imbecille e non è diciamo imbecille totale naturalmente l'imbecilità era una sottocategoria della più ampia categoria di follia morale che lo stesso Lombroso ha ben spiegato e perché la sua azione era intesa come un'azione occasionale e non c'erano nelle perizie fatte a questa donna tratti altri che potessero diciamo giustificare alcune componenti fisiche genetiche di questa imbecillità totale per cui viene codificata come semi imbecillità e naturalmente poi questa vicenda ha aperto ai miei interessi anche il grande tema del rapporto della donna con la gravidanza quindi tema analizzato anche dallo stesso Lombroso il quale come dire diceva che nei vari passaggi della donna delinquente su questo tema specifico ci ricorda che la donna dunque sente meno come pensa meno la sua la sua ottosità dolorifica e darwiniana per non dire teologica essa ci spiega perché così facilmente ricada nella gravidanza malgrado i dolori del parto e il malgrado prenda così poca parte ai comportamenti corporei dell'amore l'uomo non farebbe altrettanto il tema della gravidanza è un tema particolare rispetto a quelle che erano le logiche di reclusione manicomiale che in quegli anni si attivavano perché le donne che restano in numero superiore agli uomini in quegli anni come diciamo numero superiore agli uomini in termini di reclusione manicomiale soprattutto nei contesti rurali venivano rinchiusi in manicomio non solo perché potevano manifestare queste forme di diciamo di alterazione nervosa conseguente alla gravidanza ma anche perché avevano gravidanze per esempio fuori dal matrimonio molte sono state eh i casi che poi ho ritrovato appunto lavorando nell'archivio del manicomio di San Benedetto eh a Pesaro a partire da questa eh perizia eh che mi sono casualmente ritrovata dal tra le mani e che poi appunto ha veramente eh in qualche modo ho segnato un percorso di studi per me molto significativo e importante così come per esempio finivano in manicomio anche le donne che all'interno del matrimonio non potevano non volevano non riuscivano ad avere figli quindi questo è il rapporto che anche questa perizia eh mette in luce con eh con l'infanticidio ora eh è sicuramente come dire eh vero che per alcuni aspetti eh l'ombroso lo condivido sinceramente fino in fondo eh sia in qualche modo all'avanguardia tuttavia resta il tema eh di fondo che rispetto appunto a questa eh presenza significativa di donne all'interno delle strutture manicomiali ehm il dato certo è che probabilmente eh prevale anche qui eh la messa in parentesi di una responsabilità perché eh la differenza sostanziale tra eh come dire l'essere in carcere e l'essere in manicomio resta comunque sulla capacità di intendere e volere quindi come dire ehm questa questo dato è eh sicuramente riscontrabile eh prima pensavo eh a a a tutte le analisi e i dati che sono stati presentati rispetto diciamo al numero quantitativamente inferiore no? Di dati di reati commessi eh dalle donne o comunque in particolare rispetto a a le uccisioni dei mariti probabilmente bisognerebbe incastrare l'analisi del dell'archivio storico con l'analisi di archivi anche manicomiali per poter capire eh che tipo di eh di conseguenza e che tipo di percorso di riscrittura quel quel reato ha avuto in età ovviamente più prossime a noi un altro aspetto che condivido che vorrei appunto condividere con voi è anche ehm legato un altro filone di ricerche che mi ha visto coinvolta e che è molto diciamo prossimo a noi e penso per esempio ai casi che ho incontrato lavorando proprio diciamo eh in sempre in in riferimento al tema del sistema sociale del sistema lavoro eh una ricerca appunto eh condotta proprio in termini diciamo di quelle che sono le eh difficoltà lavorative al femminile in maniera particolare rispetto alla crisi economica che ha preceduto questa attuale quella pandemica e e anche ai casi di suicidio cioè era una rilettura eh del suicidio di Durkheim in quel momento di eh crisi economica e ed è una ricerca che eh ha incontrato che per quanto mi riguarda ha indagato soprattutto la dimensione di difficoltà lavorativa legata a quelli che sono i lavori cognitivi cosiddetti lavori individuali in maniera particolare quello che accadeva all'interno eh delle delle università delle accademie e quello che accadeva in alcuni percorsi di giovani studiose incontrando per esempio appunto anche situazioni eh tragiche di suicidio anche qui il suicidio è un elemento eh importante perché eh in un caso particolare che io ho studiato di donna che eh arriva a questo gesto estremo eh lasciando eh alla famiglia il testamento come dire del suo atto stesso cioè non riesco a sopportare l'idea di non eh riuscire a impiegare le mie energie in una cosa che si chiama lavoro cioè che abbia una contropartita una remunerazione e e non riesco più a vivere questa dimensione di precariato una storia appunto che poi dal punto di vista mediatico andandola a intersecare quindi ricostruendo la vicenda familiare andandola a intersecare poi con quella che era stata la narrazione mediatica veniva eh eh trasferita come eh eh la donna che si è uccisa per motivo passionale per penne d'amore ecco questo secondo me è un elemento fondamentale ehm che naturalmente è un caso che è quello che ho analizzato in profondità ma dal punto di vista statistico ce ne sono molti altri cioè dal punto di vista di questo tipo di frame narrativo eh che non è neutrale e non è neanche insignificante perché eh quello che Rose chiamerebbe una neutralizzazione del dell'atto politico è una depotenziamento di quel gesto che comunque è un gesto politico nella misura in cui eh astenendosi ovviamente da qualunque valutazione morale nella misura in cui è un atto estremo che si contrappone a un sistema eh che probabilmente non è non risponde adeguatamente alle esigenze eh lavorative in genere in particolare delle donne quindi la riscrittura in termini di passioni di quel gesto è con congiuntamente la neutralizzazione e il depotenziamento del valore forte e simbolico del gesto stesso altro finisco soltanto condividendo con voi un ultimo passaggio che è stato lo studio delle rappresentazioni mediatiche delle donne terroriste in particolare del delle degli ultimi anni del terrorismo islamico in particolare dal duemilaquindici al duemiladiciotto facendo presente che eh questi studi e queste cioè la decostruzione di questi processi di rappresentazione facevano riferimento anche ehm ad altre eh altri studi che avevano diciamo eh già analizzato o eh aspetti simili in maniera particolare mi riferisco agli studi per esempio di eh beni sulle sulle donne delle BR no? E al al racconto anche qui eh di eh depotenziamento della loro capacità eh di eh scelta e di eh prassi violenta fatta con consapevolezza e fatta con eh con una responsabilità che in realtà dentro il racconto di queste biografie torna ad essere elemento passionale torna ad essere l'elemento esclusivamente a supporto della biografia maschile e questo accade anche eh nelle pratiche discorsive che eh che raccontano eh le terroriste legate diciamo all'area dell'Islam eh per farla breve se sono se sono come dire eh spesso eh descritte e raccontate come di supporto all'uomo eh sono raccontate come necessarie eh anche perché eh il loro gesto di violenza re amplifica in qualche modo eh la portata diciamo terroristica del gesto stesso proprio in quanto donne e ma eh l'elemento che tiene insieme tutte queste narrazioni è comunque il dover dimostrare costantemente ribadire costantemente la passionalità e la dimensione di supporto non la scelta eh della violenza in sé non la responsabilità della violenza in sé un altro elemento eh e l'ultimo davvero che eh mh condivido con voi è uno studio che eh ormai risale al duemiladiciannove che avevamo fatto eh per altri come avevamo fatto intendo con il gruppo al quale appartengo di ricerca presso il suo Rosciola ben in casa avevamo fatto rispetto a quello che è stato credo forse ne abbiate memoria eh il grande tema delle eh dell'emergenza rifiuti in campagna in quegli anni eh e le rivolte appunto che ci furono in tutta la campagna eh indagavamo quel quel tema in chiave di topografie dello spazio sociale quindi su altri aspetti eh però è molto interessante eh dalle analisi appunto che abbiamo fatto di decostruzione del dibattito pubblico anche lì notare eh come venivano descritte eh su un piano mediatico e quindi la stampa ma eh nazionale ma è locale e nazionale insieme le donne che erano molto presenti eh in quelle rivolte spesso le rivolte che hanno a che fare come ci insegna anche Donatella della Porta che studia molto questi fenomeni che hanno a che fare con la difesa dei territori penso anche le vicende eh di alta risonanza come le notavo vedono un protagonismo femminile no? Eppure rispetto alla questione eh e anche lì per esempio la stessa della Porta ma anche c'è un saggio molto bello di Anna da Scienzo che eh decostruisce eh tutti gli stereotipi di narrazione di eh di delle donne eh appunto legate alle eh che sono state coinvolte in vari processi a seguito di atti commessi all'interno appunto delle delle del dell'associazione Notav e delle proteste che venivano messe in piedi di come queste stesse donne venissero descritte in realtà sempre sul loro versante passionale sempre l'inconsapevolezza di sempre a supporto della lotta che però era dell'uomo nel caso specifico delle invece della questione legata eh alla campagna alle discariche è molto interessante vi leggo un passaggio che chiude bene diciamo che sintetizza Antonello Petrillo in questo lavoro collettivo che avevamo fatto è che sintetizza il modo in cui le donne che protestavano in quei giorni a difesa dei territori venivano descritte eh all'interno appunto del dibattito pubblico e quindi mi riferisco in particolare alla stampa eh locale e nazionale eh a dei tratti che poi eh nel saggio che che Petrillo restituisce sono spiegati molto bene che in qualche modo rinviano proprio a una matrice discorsiva che somiglia molto a quella che era la matrice discorsiva di Niceforo nell'Italia Barbara contemporanea che poi è la stessa matrice che si ritrova nella descrizione in genere dei tratti di quelle rivolte ma che sulle donne ha un segno particolare dice sono eh donne con l'immancabile moccioso in collo è una delle espressioni che frequentemente si si ritrova eh nella nella descrizione di di quelle rivolte di esse si è scritto che esibiscono la lorio variopinta arretratezza che sono impudiche come solo gli autentici miserabili sanno esserlo che si nutrono male che vivono peggio in abitazioni ben al di sotto degli standard igienici auspicabili in un paese avanzato e poi pretendono di parlare del nesso tra diossina e incidenza fuori norma delle patologie tumorali in campagna e ribadisco appunto naturalmente poi eh qui ritornavano soltanto una sintesi ma ci sono intere descrizioni di questi passaggi eh che riproducono proprio no questa ehm questa visione niceforiana eh della della donna meridionale in particolare che era la donna che stava protestando per qualcosa che riteneva invece eh essere giusto grazie mi fermo qui e poi se ci sono domande ok grazie Stefania grazie e questi 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 incontri ci prendono sempre per stanchezza io me ne rendo conto però siamo miracolosamente straordinariamente in orario proprio per poter un po' diciamo discutere io come si dice in questi casi da brava moderatrice apro il dibattito questo è ormai una sorta di rituale in genere il chi coordina apre il dibattito in attesa che ci si scaldi un po' diciamo intrattiene eh i colleghi no io ho preso tantissimi appunti perché quello che pensavo mentre vi ascoltavo è che abbiamo fatto quello che io davvero mi auguravo cioè abbiamo fatto esplodere il tema da un lato mettendo davvero sul tavolo mille questioni diverse che ognuno con cui ognuno poi fa i conti nel nel proprio mestiere dall'altro però con degli straordinari anche punti di convergenza con delle domande poste da dagli uni ma che valgono perfettamente anche anche per gli altri io così ve le passo rapidamente rassegna ma solo sono solo alcune evidentemente perché i miei appunti sono troppi anche questa idea della scelta della pena capitale legata al al genere o agli esiti sanzionatori diversi a parità di crimine la cultura della vendetta di cui ci parlava Lidia Zanetti e le tante sollecitazioni che ci ha dato dato Simona Fici questo questo concetto secondo me molto importante della della rappresentazione eh poi della di queste delle forme di violenza le zone franche no? queste zone di di negoziazione possibile di ricercata legittimazione eh diceva Simona o anche questo concetto eh che è che che va tenuto presente della violenza della violenza correttiva della gerarchia della rilevanza eh delle offese anche a seconda delle epoche appunto eh ricordarci ancora una volta che non dobbiamo rischiare di appiattire o di ehm impropriamente eh attualizzare ehm questo fatto delle donne spesso affiancate da uomini è tornato questo questa è un'immagine che è tornata in varie occasioni o l'idea della violenza come sovvertimento e forma di tradimento che appunto mi pare straordinare perché viene naturalmente eh attribuita alle donne e tutto l'addomesticamento appunto necessario eh rispetto a queste donne che è un altro un altro concetto che che come dire scivolava eh da una da una relazione eh da una relazione all'altra e ancora a convincerci che dobbiamo ragionare in maniera come dire globale appunto una delle domande di di Simona quanto un tipo di letteratura che di cui ci ha dato qualche saggio influenza poi i comportamenti i comportamenti reali ehm questa idea del conflitto appunto banale apparentemente eh banale eh di cui parlava Roberta Falcetta è appunto una domanda che poi è fondamentale ma non solo evidentemente per eh per l'ingiuria cioè come non cadere nella trappola della standardizzazione e seroepitizzazione che è cosa diciamo che un po' eh è in agguato per per tutti quanti il tu parlavi Roberta anche del dei processi del punto come fonte una delle delle fonti eh indispensabili per questo tipo di lavoro e mi tornavano in mente le parole di Dominico di No che peraltro sarà la una è una correghia di Rende evidentemente sarà la correlatrice della tesi in cotutela eh di Roberta che parla degli archivi giudiziari come archivi della repressione scritti da uomini quindi evidentemente anche questo è un dato che va assolutamente eh tenuto presente ehm delle tante cose che che ha eh ci ha detto Silvano Montaldo ancora appunto la donna istigatrice questa cosa che ritorna e poi mi piaceva moltissimo eh questa sua analisi delle differenze geografiche eh oltre che della diversa ricezione poi di di Lombroso in Italia rispetto rispetto alle altre nazioni mi veniva quasi appunto questo concetto della criminalità direttamente proporzionale eh proporzionata al al grado di eh di civiltà e appunto quando parli della Francia mi sembrava davvero che si potesse parlare di una sorta di criminalità del Languedocchi e criminalità eh di Languedocchi evidentemente ehm Ignazio Grattagliano ci ha come dire travolto con mettendoci proprio a nudo di fronte a tutta una serie di della pratica della pratica di queste cose che per una come me evidentemente eh che ragiona certo di di pratiche ma pratiche del passato mediate eh naturalmente dalla carta peraltro dalla carta dalla carta d'archivio e dalla parola dell'archivio ha sempre un effetto di di scuotimento molto forte mi sembrava estremamente stimolante fra le tante cose che tu dicevi questa idea di di ricostruire la storia della persona no? E credo sia di di chi commetta il reato che di chi ne ne è vittima e anche appunto della relazione che poi ha suscitato il reato e non solo guardare evidentemente all'esito no? All'atto finale e correggere direttamente l'atto finale la criminalità femminile deve confrontarsi con una serie di stereotipi appunto tornano anche in questo caso di stereotipi così come torna nell'intervento di Ignazio ma anche in quello eh di Stefania questa questa responsabilità questo questo ricordarci che noi abbiamo una responsabilità evidentemente ognuno per eh per il proprio per il proprio campo eh che c'è uno scarso dialogo sia fra i saperi esperti e evidentemente la società civile scarso dialogo fra i saperi esperti e un ruolo dell'insegnamento universitario ancora troppo spesso arroccato su posizioni su posizioni accademiche con un ruolo attivo e un ruolo passivo in cui non ci si rende conto lo diceva anche Stefania che noi formiamo tecnici si rischia di formare no dei tecnici e non e non degli esperti e c'è una responsabilità eh molto forte evidentemente eh evidentemente anche straordinare le immagini di questa pubblicità tossica eh direi che tu hai ci hai proposto e che mi ha fatto tornare in mente l'ultimo saggio del del libro curato da te da Laura Schettini Simona eh quello sulle retoriche della violenza di Cristina Gamberi in cui ci sono queste immagini che a me paiono straordinarie cioè delle fotografie eh di atti di violenza contro le donne in cui appunto l'autrice ci dice ma volete volete vedere un po' qual è la prospettiva in cui la foto ci costringe a metterci ed è la prospettiva di colui che produce la violenza e ne siamo quasi ne siamo quasi a sue fatti insomma e e invece appunto vanno va sorvegliati i linguaggi le narrazioni le rappresentazioni questa è una stata un'altra sorta di fil rouge di questo di questo nostro incontro devono essere da un lato appunto materia di studio tanto quanto quello che ci restituiscono le fonti sul piano fattuale che anche di di sorveglianza evidentemente e non non approfitto più del del mio del ruolo di maestro maestra concertatrice di questo di questo incontro che io mi permetto di definire bello davvero bello e stimolante e davvero vi chiedo se ci sono nonostante la stanchezza che immagino non sia non sia poca se ci sono delle delle suggestioni degli interventi delle delle curiosità delle domande evidentemente da fare da fare le nostre relatrici e i nostri relatori Anna Stella Aurora Nello spirito del cantiere potrei condividere con voi un'immagine? E come ce la faccio? Ce la faccio? Perché sia dalla relazione di Simona questa importanza della violenza che rientra nel quadro della correzione questo tema della rissa fra donne mi è subito venuta in mente un'immagine che magari già conoscete a me l'ha dito ma forse no e che avevamo pensato con Isabella Gagliardi come copertina ideale di un numero monografico di ricerche storiche dedicato alla didattica della storia di genere provo a condividerla non so se alla prima la metto qua questo è un gioco e non dobbiamo dubitare che dovesse circolare moltissimo condivido lo schermo eccolo forse ce la faccio non so se riuscite a vederlo sì sì certo forse già lo conoscete è un incisore della del 600 si chiama Giuseppe Maria Mitelli 1634 1718 e è un gioco delle donne si gioca a dadi e vedete no poi non abbiamo preso questo come copertina perché la resa la resa grafica insomma era complessa per un monografico di rivista però c'era questa parte finale che dopo tutta una serie di occupazioni della donna durante la giornata questa parte finale con lei che trova risse con le vicine e il marito che la bastona quindi quando Simona ragionava di tutte queste cose io veramente ho avuto la tentazione di farvela vedere come un'immagine sicuramente doveva avere almeno nella Bologna del tempo e forse non solo lì una certa circolazione se posso poi aggiungere eh piace sì questo e poi la fine la fine gloriosa il marito che la bastona e giustamente Simona si chiede ma perché così pochi omicidi rispetto a quanto le donne dovevano dovevano subire quello che mi ha colpito se posso continuare proprio due minuti è se si voleva scardinare logiche binarie se si voleva de-essenzializzare il maschile e il femminile contestualizzare differenziare mi sembra che questo seminario abbia assolutamente scusate tolgo la condivisione non so come si fa interrompi la condivisione mi sembra che questo seminario abbia veramente centrato Anastella l'obiettivo io sono rimasta anche tanto colpita dall'introduzione di Nichi Vendola e spero che lui voglia stenderlo questo testo perché ragionare di questi temi mettendo l'accento sulla difficoltà di un colloquio fra la ricerca quindi quello che tutti noi facciamo ogni giorno poi vederla poi questa ricerca che si traduca in qualcosa di utile di significativo che ne vengono ascoltati gli esiti questo mi è sembrato insomma un punto importante che va tenuto presente quindi se io ho sentito in questo seminario come dire un tono civilmente alto e non sempre questa cosa insomma si sappiamo bene si può dire così anche come l'esigenza di parlare di violenza di cercare di meglio comprenderla per ragionare anche di non violenza quindi questo senz'altro era un punto un altro e poi veramente chiudo qui è l'importanza dell'incrocio di fonti diverse questo viene fuori da tante di queste comunicazioni concentrarsi su un'unica tipologia di fonte insomma rischia forse di non essere così improduttivo io sono stata tanto incuriosita dalla vicenda del palazzo romano che ha infacciata la storia di Giuditta perché questo mi è sembrato come una famiglia nobile del Seicento se capisco bene sceglie questo soggetto ecco questa è una cosa che mi ha davvero incuriosito così come questa fecondità di riflessione dell'Ottocento che in questa bellissima relazione del professore Montaldo anche se ecco manca forse una cerniera con un prius questa fecondità di riflessione sarebbe bello ecco un dibattito precedente su questi temi su che cosa che cosa ci offre e un'altra cosa ecco che anche mi fa riflettere è come da una parte si neghi spesso alla donna questa degnità del male questa capacità di generarlo di pensarlo depotenziandola in ogni modo però da una parte dietro le quinte no permane questa immagine no di estigatrice di colei che ispira quindi un po' una facce facce molto diverse niente chiudo chiudo solamente qui ringraziando veramente tutti i relatori e le relatrici per quello che ci hanno offerto e tu Anna Stella per aver messo su questo gruppo così stimolante e Aurora grazie mi piace il tuo intervento è una sorta di scivolo per domattina no in cui sarai sarai tu a coordinare c'è una domanda in chat che che io leggo sarebbe stato interessante conoscere anche le statistiche di genere sulle pene corporali capitali e pecuniarie conseguenti a colpe e peccati di natura religiosa ovvero inferte nello Stato Pontificio e ciò per comprendere se l'ambito religioso ha comportato differenze rispetto a quello laico atteso soprattutto l'importanza del credo religioso e particolarmente cattolico nell'Italia sia odierna che nel passato ovviamente apro la domanda no la questione è che a prescindere credo allo Stato Pontificio i fori erano appunto sia laico che ecclesiastico quindi credo che la domanda possa essere più generale e chiedo a chi vuole vuole rispondere statistiche di genere sulle penne corporali capitali e pecuniari di natura religiosa forse posso intervenire io e poi da romana e poi eventualmente domenico sei ancora collegato per un periodo un po' più tardi no domenico è dovuto andare via possiamo anche riprenderla domani comunque la domanda no ma insomma molto brevemente mi dà anche l'occasione di diciamo di ricordare innanzitutto a me stessa una cosa che forse non abbiamo messo a fuoco e che invece diciamo è stata chiamata molto bene in causa ho sentito quello di Stefania Perraro cioè c'è anche una violenza istituzionale naturalmente lei lo ha visto nel manicomio però io invece penso a quelle che sono le comunità conventuali e le comunità monastiche allora ci sono degli studi importanti sulla criminalità del clero anche la proprio la criminalità ordinaria non sto pensando né a cose diciamo come la pedofilia né a reati di fede proprio reati di tipo normale cioè normale insomma per quello che può essere normale un reato quindi furti aggressioni violenze eccetera questi studi sono stati condotti diciamo da Gianni Romeo e per per l'Italia meridionale ma insomma esistono anche per lo Stato Pontificio addirittura negli anni trenta del seicento viene istituito un carcere apposito tra l'altro dall'interessantissima struttura a cella quindi diciamo molto anticipataria rispetto a questi modelli poi che si attestano tra diciamo all'inizio dell'ottocento diciamo così proprio per il clero criminale per quanto riguarda invece i reati cioè per quanto riguarda le comunità conventuali femminili sono luoghi di grande anche conflittualità e quindi anche di violenza quindi tentativi di avvelenamento sovversioni aggressioni competizione molto molto sprenata a volte questo tutto questo poi ha una ricaduta dal punto di vista per esempio cioè ha un'espressione che prende naturalmente aspetti di tipo religioso di tipo mistico insomma sappiamo ci sono degli studi anche su questo per esempio sui conventi di Bologna e non solo però ecco diciamo la reclusione è lo strumento principe per controllare le donne dalle monache riottose a tutte quelle quelle mogli indisciplinate quelle prostitute o quelle donne diciamo facili costumi quindi non non necessariamente prostitute riconosciute ma che invece hanno commercio sessuale irregolare per questo esistono ovunque ovunque in tutta Italia ma non solo in Italia anche in Spagna in Francia eccetera luoghi di ricovero la cosa interessante è che questi luoghi di ricovero spesso mettono insieme figure molto diverse figure che sono vittime di violenza figure che la violenza l'hanno perpetrata figure che diciamo sono criminali nella misura in cui per esempio hanno si danno a una prostituzione non regolamentata e quindi direi che lo strumento principe non è tanto la pena pecuniaria anche perché spesso le donne non hanno queste risorse tali da rendere anche appetibili come diciamo insomma non lo so ecco un po' un affresco rispetto alla domanda che è stata fatta eh grazie sì grazie a Nino Sisto per la domanda e grazie a Simona per la risposta potrei aggiungere un paio di cose magari per il periodo medievale certamente Lidia sì diciamo che nei casi in cui ho trovato io che ho analizzato io che ovviamente sono corti diciamo dei comuni italiani non corti arcivescovili o vescovili comunque ho notato per esempio che nel caso della bestemmia donne e uomini sembrano essere pugniti proprio con la stessa cifra e le bestemmiatrici sono piuttosto comuni e questo mi ha abbastanza stupito perché comunque la bestemmia al giorno d'oggi secondo me è associata più all'uomo che alla donna diciamo una una forma di maleducazione o comunque di ingiuria che non è appropriata alle donne in particolare e invece diciamo in epoca comunale sembra che non ci siano differenze a riguardo così come anche nella nella condizione della magia che poi diciamo dal 400 in poi diventa sempre di più un reato associato alle donne ma che è molto poco perseguito nel dodicesimo tredicesimo quattordicesimo secolo e spesso quelli condannati per magia sono uomini perché si dedicano all'astrologia dal punto di vista scientifico e quindi sono diciamo più legati a quell'ambito mentre invece per quanto riguarda le suppliche che appunto sono un'altra fonte per analizzare la giustizia criminale che non ho indagato in questa sede perché non c'era tempo le donne fanno più ricorso ad argomentazioni di ordine religioso soprattutto quelle che sono vedove perché chiaramente ci sono tutta una serie di riferimenti nel diritto canonico nelle scritture alla figura della vedova e dell'orfano come quelle che devono essere tutelate per eccellenza quindi è chiaro che in questi contesti le criminali donne facevano riferimento a un universo religioso per cercare di ottenere l'amnistia più che i criminali uomini anche se ovviamente le argomentazioni religiose non sono assenti dalle suppliche degli uomini eh sì no sullo stereotipo della strega ci sarebbe tanto da tanto da dire anche appunto la stregoneria al maschile medievale poi in rari casi la lezione di Gisburg evidentemente ci aiuta in questo anche con questa idea che appunto il medioevo no cioè voi medievisti credo che siete un po' ossessionati da questa idea che il medioevo appunto è come il nero che sta bene sta bene dappertutto insomma e mi sono ricordata questa in questa espressione di Colette Arnoux che scrive appunto questa sorta di manuale sulla stregoneria che dice nel medioevo appunto non bruciano le streghe rispetto a un'idea che abbiamo piuttosto verificano se fossero combustibili no come se preparano in questa espressione che a me piace piace molto preparano poi quello che noi sappiamo bene che succede insomma ben oltre il medioevo dalle soglie della fine del medioevo in poi scusa Nastella posso prego volevo chiedere una cosa a Lidia Dominguez di cui ho apprezzato la relazione ma mi ha colpito il dato complessivo adesso non la differenza di genere ma 292 condanne per omicidio a Siena tra il 1287 e il 1288 ho capito bene sì sono tantissime me ne rendo conto sono veramente tante anche rispetto ai grafici che abbiamo visto sulla diminuzione degli omicidi in Italia però Siena ma era un anno eccezionale oppure era allora è un anno un po' particolare perché in quell'anno si instaura un nuovo regime il regime dei nove che diciamo governa Siena fino a metà del 300 e quindi probabilmente per legittimarsi come regime hanno anche cercato di diciamo fare una lotta alla criminalità più spiccata però non è un dato così inusuale per la Siena di fine 200 inizio 300 ci sono anni con davvero centinaia e centinaia di condanne per crimini violenti e a Siena peraltro c'erano la polizia senese dell'epoca aveva una proporzione tra poliziotti e abitanti della città di Siena che è superiore a quella della New York attuale è stato calcolato quindi Siena era abbastanza eccezionale nel panorama dei comuni italiani perché si presentava proprio come una città che faceva della difesa dell'ordine pubblico del buono e pacifico stato della città un dato davvero centrale allora io sono sicura che le condanne poi eseguite sarebbero allora probabilmente più della metà delle persone indagate se la sono data a gambe il prima possibile e quindi sono stati contannati in contumacia anche perché il comune di Siena era molto piccolo in un'ora si arrivava già più o meno a Firenze e da lì si era liberi di fare la propria vita diciamo del 40% rimasto probabilmente solo il 30% è stato condannato a morte date le statistiche che sono disponibili però è un lavoro che ovviamente è ancora in corso e quindi non sono in grado di dare dei dati precisi anche se è lo scopo della ricerca poi finale Aurora tu che ne pensi della tua Siena Aurora il microfono ma è difficile dare difficile dare un parere certo i dati che Lidia ci offre sono molto alti però lei stessa introduce delle cautele quando dice poi non sappiamo poi non sappiamo no in questi termini quantitativi no sto lavorando adesso successiva no no sto lavorando su una fonte diversa che è quella del vicario il vicario del tribunale di giustizia che è una figura interessantissima istituita da Pietro Lopoldo nel 1778 quindi siamo un po' dopo è una figura che prende diciamo a modello i commissari parigini Pietro Lopoldo la istituisce anche a Firenze dove sono quattro commissari di quartiere studiati benissimo dalla compianta Alessandra Contini Bonacossi in un saggio importante che è la città regolata e fa vedere proprio è interessantissimo vedere come questi commissari di quartiere alla fine vengono proprio chiamati in gioco proprio dalla popolazione locale anche dalle donne per mediare tutta una serie di conflittualità quindi sto cercando di vedere la fonte su Siena che cosa ci offre io non so se Zoom consenta le manine per cui se ci sono altri interventi semplicemente come dire vi invito a prendere la parola beh sono 18 e 59 se finiamo adesso siamo siamo come dire perfetti quasi mi commuovo va bene non possiamo andare a prendere un aperitivo tutti insieme perché un bel bicchiere ci sarebbe stato molto bene ci dovrei invitare a Bari ci dovrei invitare a Bari in questo vi sono creditrice di un momento di umanità proprio che in questo adesso ci vorrebbe proprio davvero lo rimandiamo soltanto va bene allora ci vediamo domattina a questo punto alle nove noi siamo siamo di nove Roberta aprirà almeno mezz'ora prima diciamo come il suo solito e